Benvenuti a Compila, quindi va! Perché è arrivato, dovrebbe scorrere verso l'alto, però vabbè, allora, infatti non volevo, non volevo disturbare la playlist con le, adesso però ho perso la mia, dov'è? Ecco, ho perso la mia, la mia, quella da, come dire, royalty free, perché altrimenti, questa la metto solo all'inizio perché di solito la taglio, quindi, buonasera, ciao Jax, ciao Muzio, ciao Silvietta, ciao, c'è anche il mio monimo Marco, come va? Adesso appena trovo, vabbè, ma è vero che c'ho anche la ricerca, che non sfrutto mai, non ci vuole tanto a, oh là, così forse l'ho trovata, non è questa, perché ho ascoltato un po' di roba e un po' che non mi è finita giù nel, no, ho proprio persa quella del, dov'è? Dov'è finita? Cerca in tua libreria, oh là, forse l'ho trovata, eh, vabbè, niente, adesso puoi tenerla bassa comunque, la metto sottofondo così, buonasera e mezza C, guardate, non stavo leggendo la chat, o da, almeno anche Cristina d'Avena, quelle più recenti, diciamo che sono un po' più, come dire, le trovo un po' più banalotte, ecco, quelle più nuove, ma forse è perché ero, ero già cresciuto io, ma quelle, meno un po' più vecchiote, non sono, non sono male, tutto sommato, quindi, ne ricordo alcune abbastanza carine, abbastanza famose, tra l'altro, dalla mia parte, è venuto in concerto, penso un paio d'anni fa, in piazza, che aveva dei fan abbastanza sfegatati davanti, poi dopo si è messa a firmare tutti gli autografi, ma è una abbastanza ironica, e quindi, mentre la gente si, si, faceva un po' di chiasso, faceva delle battute abbastanza dirette, quindi, è una tipa, spesso fa i concerti con, adesso, quei Jam Boy, che sono un gruppo bolognese, di, in realtà, un gruppo musicale che fa anche cose inedite, ma fa, spesso fa anche cover di canzoni di cartone animati, cambiando il testo e rendendo lo sconcio, ecco, quello, però, con un pochino di, di arguzia, tra l'altro, i cantati di questo gruppo, Jam Boy, sono abbastanza famosi, anche perché sono stati in tv, nella loro versione, come si chiamavano, erano solo in due, anche se il gruppo è più ampio, Jam Boy, Bikini, qualcosa del genere, a Colorado Caffè, infatti, anche su Mediaset, cantavano, eri poterino, Enrico Poterino, nome un po' da sfigato, queste cose, cantavano parodie, ovviamente, di canzoni famose, come hanno, più o meno, sempre fatto, e siccome spesso le canzoni erano quelle di Cristina D'Avena, come si dice, se non puoi battere lì, alleati con loro, vanno spesso in concerto assieme, non sempre, ma ogni tanto, si vede assieme, dove lei canta, e loro poi fanno il verso, e quindi, c'è anche una certa dose di autoironia, alla fine, alla fine ci sta, tutto sommato, quindi, ho detto, stasera cosa metto in là, perché siccome il primo pezzo, lo taglio, a parte che YouTube, rompe le scatole, perché c'è Jim Carrey, e quindi dice, anche se è totalmente coperto, riconosce la sequenza del film, anche se poi è tutta, eccitata, diciamo, con fair use, oddio, non che dica poi nulla di che, cioè, però riconosce, la parte iniziale, che io più di solito, va a tagliare, quindi, quantomeno, perché se uno si riguarda, la live, non sta a guardarsi, dieci minuti, di cose, che alla fine sono inerti, serve un po' per dare un po' il tempo, la gente di entrare in chat, quindi, che io più che altro faccio per prassi, lo fanno tutti, lo faccio pure anch'io, però, sì, dà il modo, la gente di trovarsi, però, quindi ho detto, siccome l'ultima volta, Jim Boy, la canzone, Just My Imagination, quella me la, me ne ricordo poche, perché io non sono, li ho ascoltati, però, quella, me la ricordo, Just My Imagination, sembra tua madre, quella tua madre, perché vedono, se non ricordo male, la scena è che loro al cinema vedono, oppure in giro, vedono, una tizia che fa cose, diciamo, un po' sconce, quindi, insistono nel dire, quella, è in giro, in giro, allora, mi confondo, al cinema invece, era Paolino Paperino Band, che è un altro gruppo, secondo me, sempre della zona, sempre bolognesi, che però fanno del punk, Scar Rock, e anche loro, giravano molto negli anni 90, non so se suonano ancora, e facevano delle canzoni, ancora più politicamente scorrette, e lì invece, c'era proprio la scena, dei ragazzi, che vanno a vedere, un film, a luci rossa, al cinema, e si trovano davanti, la madre di uno di loro, che quindi, dopo inizia il pathos, e poi inizia anche la parte divertente, perché c'è la sorella, con l'orsacchiotto, e invece, nei jamboi, la vedono in giro, e lui che nega, che, e loro che gli dicono, quella è tua madre, è tua madre, e lui dice, no, è just my imagination, solo immaginazione, deve essere abbastanza, come dire, una brutta situazione, trovarsi in una cosa del genere, però, vabbè, ovviamente, satira, poi, oggi diventa un po' pericoloso, questo tipo di, di cose, perché rischi veramente, di attirarti, però fondamentalmente, sono, come dire, political incorrect, però, cioè, è satira, un humorismo, quindi, alla fine, non c'è nel, sono anche autironici, perché c'è una canzone, oggi non si può più dire nulla, diciamo, che sono un po' cambiate, le sensibilità, da un certo punto di vista, su alcuni aspetti, forse può essere, meglio, perché almeno, alcune cose, tipo, cine panettoni, che non sono proprio il massimo, ecco, quelle, iniziano a non fare effettivamente più, bisogna un po' innovarsi, però, ad altri punti di vista, si rischia molto, di buttare il bambino, con l'acqua sporca, come si vuol dire, quindi, a me piace molto, la, 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 la satira, anche un po' il black humor, e quindi, sono meno gli spazi, in cui si trova, chi fa questo, anche in pubblico, rischia veramente, di, di, di prendersi, dei cefoni, quando, poi, alla fine, non bisognerebbe, insomma, prendersela più di tanto, però, sono un po' sintomi dei tempi, si prende il buono, si prende il cattivo, quindi, io sono, abbastanza ostico, a questo tipo di mentalità, però, che ci vuoi fare, ma, una musica alta, no, io la sento, in cuffia, per cui, non mi dà neanche, troppo fastidio, quindi, vediamo, e quindi, così, ehm, che volevo dire, niente, stasera, non avevo programmato nulla, se non, eh, che sono tre anni, in realtà, non è, l'anniversario del canale, perché io l'ho aperto prima, di giugno, tre anni fa, però, Twitch mi segnala, che sono affiliato, da tre anni, affiliato, è quello status, dove, auguri, grazie, uno stato acquisito, dopo aver completato, un pochino, di obiettivi, da quando hai aperto il canale, quindi, in realtà, poi, si è fatto abbastanza presto, da raggiungere quel livello, ma poi, da lì, ci si è più spostati, quindi, ma, perché è il livello superiore, partner, dove, effettivamente, ci sono anche, eh, onori, oneri, e quindi, però, abbastanza, cioè, alla fine, mi, come dire, mi sono abbastanza soddisfatto, del, della piccola community, che, che si è creata, soprattutto, chi c'è sempre, che io non so come faccio, perché, c'è stato, il Del Fidele, settimana scorsa, a Piacenza, infatti, volevo fare vedere, qualche foto, dopo, e parlare un po' dell'evento, per chi non, non ha potuto esserci, sia per questioni geografiche, sia per raccontare qualche aneddoto, però, sì, qualcuno, qualcuno mi ha anche chiesto, sei tu, compila, quindi va, e quindi, ho detto, sì, sì, nome e cognome, e tra l'altro, io sui forum tecnici, ho sempre usato, dei, un nick diverso, a lavorare, mi chiamano con un soprannome diverso ancora, e quindi, sono un po' indeciso, a volte avevo usato questo nick, ma poi l'ho cambiato, quindi, c'è un po' di, ho diverse identità, in diversi posti, però, vabbè, in questo caso, come dire, ci sta, quindi qui, sull'identità multiple, esatto, cioè, in realtà, nick multiple, una identità sempre la stessa, perché più o meno, mi presento più o meno uguale dappertutto, quindi, fluido no, fluido no, non sono fluido assolutamente, però, anzi, mi presento fin troppo uguale, perché in altri contesti, dove, comunque, dico cazzate, proprio degli effetti, però, in maniera, anche su altri canali, che fanno tutt'altro, non si fa programmazione, sono sempre quell'aurea di, incuriosisco, perché, comunque, avendo già una certa, e quindi, sì, su Twitch, ormai sono compila, non c'è niente da fare, anche su, su altri canali, dove, mi capita anche di giocare, compila, mi urlano, vedete, quando facciamo, forse qualche ride, o così è capitato, compila, poi mi piace, comunque, mi piace come abbreviazione, mi fa abbastanza ridere, quindi, ormai, però, con il mio cognome, collaborativamente, parlando, cioè, i miei compagni di classe, mi avevano chiamato breve, dal mio cognome, invece, sul lavoro ormai, si è diffuso sberva, e quindi, che è un, dall'idea di qualcuno, perché più di, mi hanno sempre detto, anche, da dove è stato inventato, si è diffuso subito, perché, è un, è un nick, che ha quella connotazione, ti storpi un po' il cognome, però, c'ha quella connotazione, che quando tu hai qualcosa, che non va, o te la devi prendere con qualcuno, e dice una cosa, tipo, maledetto sberva, tutti, apprezzano questo, questo nick, che comunque, ti consente anche di sfogarti, dai, dai la colpa a me, mi dici, mi dici così, e quindi, per cui è uscito di lì, si è diffuso, anche tra soci, si è diffuso, mentre, ad esempio, gli amici locali, mi chiamano Alka, perché, il mio nick, è Alka, che, che deriverebbe, in realtà, da Alka Seltzer, non so, da cosa è uscito una sera, uno di questi è uscito, da domani ti chiameremo, Alka Seltzer, e quindi, poi ovviamente, secondo me era lungo, è stato abbreviato, però c'è stato un tempo, anni 90, diciamo, primi, cioè, in realtà, mi chiamano ancora così, quindi, quando mi vedono, ciao Alka, quindi, ormai quello è rimasto così, però c'è stato un tempo, dove ci firmavo un po' tutte le cose, c'era sempre un Alka sopra, e quindi, anche su alcuni forum, e così, ho ancora quel nick, ma lo tengo, perché lì ormai, è stato talmente, è talmente storico, è talmente usato a lungo, che ormai, invece su Twitch, su altre parti, cioè, compila, compila, va bene, tanto poi, alla fine, sono sempre a me, come si dice da queste parti, sono sempre io, e quindi, quindi, sono tre anni, di affiliato, e quindi, pensavo di mollarci molto prima, in realtà, non pensavo neanche, di rimanere su questa piattaforma, così, a lungo, perché mi è capitato spesso, di voler iniziare magari, delle iniziative, un po' come uno dice, mai mi scrivo il blog, mi scrivo, la mia intenzione, era quella di fare qualcosa, su YouTube, dal punto di vista divulgativo, però so che, sono consapevole, oggi più di ieri, che non avrebbe funzionato, se ci ricarico i video delle live, però, non ci produco contenuti, dal punto di vista, mi metto lì, faccio il filmatino, perché io ho un problema, sono un po' perfezionista, su alcune cose, e quindi, siccome dicono che, comunque, fatto, finito, è meglio di perfetto, quindi, che non vuol dire tirar via, ma comunque, che a un certo punto, devi arrivare, a fare qualcosa, io sono così, purtroppo, anche sulle slide, sulle cose, a volte, dice bene, perché magari, è un qualcosa che ti, come dire, le cose che fai, se hanno sempre una certa cura, magari piace di più, però, a volte, ci sono veramente delle cose, che non riesco, poi, alla fine, a concretizzare, perché mi sto, a fare mille segmentali, e alla fine, mentre Twitch, mi ha consentito, di raggiungere, un certo equilibrio, perché, non dovendo, diciamo, preparare nulla di che, però, avendo, di volta in volta, quando capita, quando ci sono gli impegni, inventato qualcosa, ci mette, inventato un tema, qualcosa di cui parlare, è stato interessante, perché io mi sono messo, a vedere un po' di cose, che altrimenti, non avrei mai guardato, anche perché, in queste due ore, magari mi metto lì, e mi studio qualcosina, con ovviamente, l'aiuto della chat, che magari, dà dei consigli, chiede delle cose, quindi, anche mettendo su, un po' di persone, che alla fine, rischiano, come dire, di litigare con le mogli, perché le mogli, vogliono vedere i canali crime, serie crime, mentre c'è gente, così mi hanno detto, a De Fidea, anche, che occupa la tv, la tercera, hai fatto una live, ma io, a una certa ora, abbandono, perché, è tardi, e ci credo, perché, io, cioè, mi rendo anche conto, che l'orario, non è dei più comodi, però, discorse che, di giorno lavorando, non ho, mi piacerebbe, avere, magari, una finestra, dedicare, a questo canale, anche in un altro orario, anche se, poi sono gli altri, che poi, alla fine, lavorano, soprattutto, chi fa il nostro mestiere, tranne qualcuno, che magari, però, non sarebbe, anche poi carino, da un certo punto di vista, perché, uno dice, mi, io, ho sempre cercato, di fare un po' di live, interattive, però, vedo che, c'è, seguo anche degli streamer, che si mettono lì, lavorano, hanno addirittura, il timer del pomodoro, quindi, si mettono lì, a fare le loro cose, mentre, magari, sotto, hanno la chat, e quindi, ogni tanto, siccome io, ho già, teams, e altre chat, che mi rompono le scatole, quando, faccio cose, non vado ad aggiungere, questa complicazione, altrimenti, non ci salto più fuori, e poi, non posso fare in live, cose che non siano, site project, perché sono i codici, magari, dei clienti, e quindi, non posso mettermi, a fare una cosa così, però, non mi dispiacerebbe, ad esempio, come fa Marco Minerva, che è un altro, che fa, su dotnet, fa live, anche qua su Twitch, ce l'ho trovato, nell'home page, del mio canale, segnalato, quindi, ogni tanto, li riordino, perché qualcuno sparisce, YAM sottolineatura, Ken ha appena iniziato a seguirti, YAM sottolineatura, veramente, bruttissimo, però, ciao, benvenuto, grazie, del follow, I am kin, you are kin, ben arrivato, di solito si parla di programmazione, ma stasera si cazzeggia, quindi, cioè, si cazzeggia anche quando si parla di programmazione, però, hello, in italiano, quindi speriamo, che stavo dicendo, no, quindi, come la va? Bene la va, benvenuto, presentati, se ti vuoi presentare, io sono Marco, faccio programmazione su Twitch, in italiano, quindi, perché, hello, ma pensavo fosse in inglese, ma come la va? Direi che è stato, direi che è più italiano, per cui, tra l'altro, non, vabbè, non ho detto nulla che poteva essere, dal punto di vista, assegnato, nel mio modo di parlare, no, ci stava, perché a volte, magari ti trovi hello, poi ti trovi la sbordolata, del, come dire, dello spam, e tipo, cosa di questo tipo, e quindi, vabbè, tanto poi si fa presto, ma ben arrivato, o ben arrivata, quindi, poi, direi tu, quindi, tre anni da qui, se vuoi parlare in inglese, in stile di italiano, già che già si fa abbastanza, quando mi capita di andare su canali, dove fanno il gaming, tra masterare, tra yardare, c'è un, qui c'è un po', l'abitudine a usare questo tipo di, che già poi mi viene, mi viene anche a me, perché, l'altra sera in palestra, mi ha chiesto, se avevo finito di fare un esercizio, se c'era riuscito, gli ho detto, sì sì, i piegamenti, li ho masterati, cosa vuol dire, nel senso che sono riusciti a farli, però mi rendo conto, che a volte escono così, in automatico, e per cui, per cui, si, festeggiamo tre anni di, qui viene molto comodo, perché comunque faccio queste live, essendo in diretta, non mi devo mettere a fare, sigle, a pensare, vabbè, un po' la grafica del canale, ma insomma, è quello che è, ma qui so che, ho i miei limiti, e quindi, ho mani la prima prova di italiano, per la maturità, ho giovanissimo, quindi, vorrei fare esperienze di programmatore, consigli, uh, hai aperto, il vaso, come si suol dire, non fai, ma aspettavo che qualcuno, dicesse questa cosa, perché, anche un mio professore, a suo tempo, quando mi disse, perfetto, in realtà, diciamo, che, dipende un po', da intanto, se poi, vorrei fare l'università, perché, sui forum, si tende un po', a, a forzare la mano, sull'università, io dico, dipende, nel senso, che dipende, poi anche, che ruolo, perché, programmatore, diciamo, è un po', è un po' generico, ci sono, farò come gli usa, una volta, è un po' generico, nel senso, che ad oggi, hai veramente, un'ampia scelta, di cose, che si possono fare, dal back end, quindi, dell'API, dei programmi, magari, business, anche client, visuali, per, vari sistemi operativi, in più, c'è la parte front end, quindi, nei siti web, quello che sono, le pagine web, i fogli di stile, ogni cosa, è, come dire, un, non solo del mondo esterno, vabbè, lì nel caso, a meno che non sia di tuo interesse, è chiaro che, queste cose, per esperienza, non in questo caso, dell'università, che io non l'ho fatta, quindi, ma ho visto universitari, che hanno lavorato per me, cose sul mondo esterno, difficilmente ti arriveranno, non che, ovviamente, sia inutile, ci mancherebbe altro, anzi, magari, si studiano fondamenti, di matematica, eccetera, cose che possono essere, algoritmi, e altre cose di questo tipo, ecco, su esperienza, forse la cosa più, utile che tu puoi fare, è provare a fare qualche, sai, il project, capire, visto che lo fai, per, per diletto, ma anche per imparare, costruire qualcosa per te, che possa essere un progettino, sfidante, poi ci sono, vari, vari siti, che ti possono dare una mano, io partecipo, ad esempio, a qualche forum, come quello di html.it, o come i programmatori.it, dove ci sono, forum di discussione, dove qualcuno ti può dare una mano, però, è chiaro che adesso, è un po', anche quell'ambiente, è diventato un pochino tossico, perché molti entrano e dicono, come si fa a fare un sito web, e quindi, esperienza lavorativa, se studi, o comunque, diciamo, se è appena uscito, scolasticamente parlando, devi trovare qualche azienda, che ti possa inserire, in un team, come junior, dove, comunque ci sia, come dire, il desiderio, comunque, di farti crescere, di formarti, però, se, se hai già fatto, comunque, un po' di esperienza, nel senso, che hai già lavorato, qualche side project, mettilo ad esempio su github, pubblichalo, cioè, cerca di, magari avere delle cose, con cui tu ti puoi presentare, nel senso che, ovviamente, a livello di competenze, poi, a meno che, appunto, tu non hai già, provato diverse cose, non hai già acquisito, un po' di esperienza, se sei agli inizi, però, se dimostri, secondo me, interesse, dal punto di vista, del, verso la, la questione in sé, verso, un mondo in particolare, perché poi, di solito, anche qui, ci si specializza, io, non sono di quelli, che dicono, che i full stack, non esistono, perché, c'è gente che dice, non puoi fare, ciao vision, non puoi fare, front end, back end, in realtà, poi, in aggiunta pubblica, anche su linkedin, si, ci può stare, sicuramente, ci sono diversi, chiamiamoli, influencer, anche, dato, anche qui, sul mio canale, nella pagina delle informazioni, c'è, ad esempio, la locanda del tech, che adesso, non fa più live, da un po', ci sono, e c'è developers live, che hanno anche un canale YouTube, dove ci sono le live, diciamo, la locanda del tech, è gestita da Guido Penta, spero di non ricordarmi male il cognome, che in realtà, è un recruiter, quindi, che però, si è interessato molto, dal punto di vista, del, dello sviluppo, da, per capire, diciamo, quando deve selezionare, i developer, di cosa si parla, quando si parla, delle tecnologie, diciamo, per non confondere, java con javascript, ecco, con, in alcuni casi, e quindi, sicuramente, dal punto di vista, di quello che le aziende, cercano, può essere, un punto di riferimento, e ha fatto, delle live, sì, sicuramente, puoi cercare, anche aziende, nel tuo, nel tuo, nelle tue vicinanze, possibilmente, magari, presentandoti, anche direttamente, che forse, più che mandare, un curriculum, perché, comunque, la ricerca, c'è sempre, almeno, io vedo che, a me chiedono, in continuazione, poi, base un po', anche l'esperienza, bisogna vedere, che figure cercano, però, sicuramente, può essere, può essere utile, poi c'è anche, Developers Live, che è un altro canale, che a meno, qui su Twitch, non, da un po', non stream, ma un canale YouTube, dove ci sono, diversi filmati, di Michele Murabito, do qualche nome, perché così, se vuoi cercare, detto anche Mitch, che ha un canale, dove c'è scritto, appunto, come divento, di vera, qual è, l'esperienza, dove posso andare, per cercare, questa cosa, l'esperienza, come front end, perché mi piace, in quel caso, hai anche, beh, sì, The Community Bay, fa molta, ecco, filmati, magari, di formazione, ho fatto un webinar, anch'io con loro, e quindi, loro sono molto attivi, dal punto di vista, ho fatto qualche webinar, anche con Red Informatica Lavoro, che piazza, insomma, un po' di, di sviluppatori, quindi, tutti questi nomi, insomma, bisogna un po', cercare in giro, e provare, per rendersi visibili, qualcosa, magari, devi presentare, dal punto di vista, di, saper rispondere, a qualche domanda, tecnica, quindi, prima, bisogna che fai, un po' di formazione, anche se mi pare, che qualcosa, tu abbia già fatto, e poi, poi, io non sono un esperto, diciamo, sul tema, anche perché, ma la fine, dell'esperienza innovativa, è sempre zero, e beh, comunque, si parte, tutti quanti, sono partiti da zero, quindi, quello, è un problema, ma tutti hanno affrontato, questo problema, e quindi, come dire, da questo punto di vista, se sai qualcosa, non ti reputi esperto, anche se tu, ti reputassi esperto, cioè, comunque, l'esperienza zero, parla, diciamo, ovviamente, espone questo concetto, quindi, però, sì, l'esperienza si fa, quindi, se tu inizi ad avere, qualche progetto, che non deve essere, neanche necessariamente, gigante, però, qualcosa che faccia capire, che hai, quanto meno interesse, nella materia, poi, chiaramente, l'esperienza, bisogna farla, in azienda, quindi, devi, insomma, iniziare un po' a girare, lasciare qualche curriculum, e dire, io sono, sono il tale, mi piace, mi piace qualcosa, ecco, da questo punto di vista, però, da solo riesco in azienda, no, non si sa, diciamo, che l'azienda, riesce a darti, magari, se ti affianca qualcuno, che ha più esperienza, e non è una persona tossica, questo fa da acceleratore, hai la pressione dei tempi, sì, è vero, però, magari, la pressione verso una persona, che giustamente, viene presa, per fare, come dire, un po' di, stage, comunque, per partire, un po' diversa, rispetto a quella, che si richiede, a un sviluppatore senior, cioè, capisco bene l'età, parliamo di maturità, quindi, chiaramente, da tuo vantaggio, hai l'età, sicuramente, però, dal punto di vista, insomma, dell'esperienza, questa la devi fare, ma questo è ovvio, che, è chiaro, sia per te, sia per l'azienda, ecco, da questo punto di vista, quindi, bisogna cercare un po' in giro, poi, ripeto, non sono il massimo esperto, a questo punto di vista, perché io, ho fatto questa cosa, anni fa, ed oggi, forse, le tematiche, lo scenario, non so da dove partire, eh, contatta qualche azienda, e, fatti vedere, come si vuol dire, quindi, magari, cerca qualche azienda, nei dintorni, che possa, hanno detto, su LinkedIn, ci sono delle truffe, bisogna vedere, di cosa si parla, ecco, se, cerchi ad esempio, i canali, che ho qui, nella scheda delle informazioni, sul mio, la locale del tech, eccetera, ecco, questi, non credo, siano, se si parla, ad esempio, le volte di corsi, però, seguo anche su Instagram, e conosco anche, una persona, gente che lavora, per queste società, che fanno corsi, mi viene in mente, tipo, boolean e similia, ecco, alcuni, chiaramente, bisogna vedere, cosa si aspetta, di ricevere, in questi casi, però, ecco, sicuramente, sono, sono un buon booster, ecco, da questo punto di vista, ovviamente, uno non sa, non diventa esperto, però, impara qualcosa, ovviamente, quello richiede, anche, probabilmente, un impegno economico, però, l'unico modo, per non incappare, in truffe, è cercare, un po' in giro, quando si vede un nome, cercare anche il nome, cercare dei pareri, quindi, un giro, un giro gratificato, di boolean, quello free, è quello, è già qualcosa, che puoi spendere, secondo me, da questo punto di vista, per, come dire, per, per dire qualcosa, c'è l'interesse, qualcosa ho provato, però, sì, la bacchetta magica, purtroppo, non, puoi valutare, anche di fare, il freelance, però, è chiaro, che poi, se hai dei progetti, qualche cliente, è qualcuno, che può affidarti, un progetto da fare, o qualche cliente, che può diventare tuo, verticalizzare un processo, vuole quindi, farti fare un software, devi, sei molto giovane, quindi, la cosa, forse più, più facile, a questo punto, è cercare un'azienda, che cerchi persone, da, che vogliano lavorare, formare, così, hai, diciamo, il beneficio, di avere, comunque, un introito, poter, anche, fare un po' di formazione, con l'azienda, o per conto tuo, qualcuno che ti, ti aiuta a crescere, in un tempo, utile, magari, richiederebbe di più, se fai, ovviamente, le cose, per conto tuo, e, poi, se qualcuno, in chat, ha qualcosa, di meglio, però, insomma, cercare un po' in giro, la bacchetta magica, purtroppo, non c'è, cercare un giro, ognuno, dal suo parere, quindi, anche sul forum, dei programmatori, punto it, c'è spesso gente, che chiede, informazioni, di questo tipo, quindi, se vuoi provare, a postare, anche lì, la domanda, anche se, vedo un po', ci sono un po' di persone, un po' vecchiotte, che, quindi, dicono, piace la server, anche in frontend, vado ed è più difficile, è qui, ragazzi, qui, bisogna mettersi in gioco, quindi, sicuramente, più si va avanti, più è difficile, anche, anni da lavorare, per cui, più una cosa ti piace, meglio è, però, è chiaro che, non si fanno sempre le cose, che ci piacciono, per cui, allora, andando in tema, in realtà, non è in tema, ma, volevo, purtroppo, su questa cosa, mi trovo, posso dare miei consigli, ma non sono un esperto, lavorativamente parlando, no, volevo far vedere, visto che, se ne è parlato prima, qualche foto, del, non si riesce a fare, un full screen, ok, così si vede, e c'è, qualche foto, del delfidere, a taglio, scaricate, così come sono, quindi, spero che, in mezzo, non ci sia finita, qualche, qualche foto, del gatto, qualcosa del genere, perché, dovrei averle, divise, selezionate, però, forse, è meglio controllare, le prime, ma, un skip, non clipate, poi, in realtà, erano foto, che qualcuno, andava ritoccata, e quindi, però, era giusto, perché, mi facevano, un po' da guida, nel, sono anche brutte, perché, non sono un fotografo, quindi, fotografo come sviluppo, quindi male, c'è, la settimana scorsa, esattamente, una settimana fa, perché, martedì scorso, c'è stato, martedì, mercoledì, c'è stato, il delfidere, tra l'altro, come giornata, mercoledì, dopo, seminario, tra l'altro, io ce l'avevo, al pomeriggio, quindi, ho, parlato, fino a sera, dopo, sono rientrato, e c'era giovedì, venerdì, ancora da fare, quindi, è una cosa, veramente, faticosa, quando, parto le foto, in stile, notte italiani, per il meme, ci sta, ci ho pensato, infatti, anche, sulle slide, che ho fatto vedere, in uno, ho fatto, ho fatto il furbo, perché c'era la slide, agenda, io ci ho messo, la foto di una, agendina, quindi, ho fatto, mi piace fare, però, attira molto l'attenzione, fare il somaro, tiene le persone sveglie, anche per quando hai, la tua sessione, prima del pranzo, e quindi c'è fretto, oppure, un seminario di tre ore, dopo il pranzo, non è facile tenere, l'attenzione, ma non perché, per le persone, quindi, poi, io mi metto in prima persona, perché, prima o poi, riscoverò, vi farò magari, vedere in live, una foto, che, vedo se c'è un'azienda, come voi, il design a Cosenza, perché sono di provincia, sarà la cosa più, più utile da fare, quindi, cercare in giro, e poi, andare un po' a vedere, presentarsi, se uno è fortuna, ci vuole un po' di fortuna, però, non è che ci siano altri modi, purtroppo, per, a caso, non vengono a chiamare, quindi, salvo, quindi, però, guarda qualche filmata, anche su YouTube, perché ne parlano, quindi, ho fatto un po' di, di, di fotine, qui c'è Paolo Rossi, che si prepara, quindi, come al solito, Paolo Rossi, sul, sul pezzo, che introduce, ne hanno fatte diverse, perché poi, nella mia ottica, sceglievo, un po' quel, qui è venuto un po' con la gamba, molto elegante, quindi, no, come sempre, Paolo Rossi introduce, le due giornate, quindi, fa un po' le presentazioni, logistiche, è arrivato il gattone, ciao gattone, cosa fai? Ho sentito sulle gambe nude, perché, qui c'è un caldo, e quindi ho iniziato, con le braghette corte, a presentare la giornata, quindi, c'erano due giornate, una di conferenza, con dei talk, con tempi, un po' contingentati, ma alla fine ci sta, perché purtroppo, non si può, non mangiarmi il filo delle cuffie, grazie, e neanche le mie mani, qui c'ho sempre il gatto, che mi, e, quindi, ha dato il benvenuto, sono Paolo Rossi, dimite chi taglia, ecco, questa slide, ho fatto la foto, di un particolare, mi sembra, poi vado sul dettaglio, se notate, c'è un errore, c'è un refuso, perché c'è scritto, delfico la Y, in realtà, ogni anno, questa slide, viene aggiornata, perché avete, il grafico delle presenze, poi mi ci soffermo, un attimino, e ogni anno, ha questo errore, quindi, è un palese, copia e incolla, dell'anno prima, aggiornando il grafico, però, non ci si è mai accorti, che c'è quella, o forse, c'è quello che ho pensato io, la mia teoria, che ci se ne è accorti, però dura, da talmente tanti anni, che secondo me, correggere quella Y, porta sfortuna, quindi, a questo punto, non andrebbe, non andrebbe più ritoccata, perché altrimenti, porta sfortuna, no, quest'anno, c'è un risultato interessante, perché, rispetto agli anni, ci sono state 130 iscritti, per la giornata, queste sono le giornate, della conferenza, e dei seminari, quindi, in crescita, 103, 115, 130, una bella, una bella crescita, quindi, con anche un po' di, di giovincelli, gente giovane, quindi, interessante, rispetto agli anni precedenti, ecco, andiamo dai, 2014, 63, 20, 64, poi c'è stato questo boom, 101, non mi ricordo, cosa è successo, però, forse, è un po', non, fermo occhi, ma più avanti, qui, forse, c'è stato un po' di, di risvegliato interesse, per, per il tema, 38, 40, quindi, insomma, quest'anno, è quella con più presenze, quindi, c'è anche, sicuramente, da parte dell'organizzazione, un buonissimo lavoro, perché, comunque, ci tengono tanto, e fanno abbastanza, quindi, c'è un, 115, 113, da 101, 96, comunque, siamo stati sempre, sul, sul centinaio, adesso, stiamo andando un po', verso, i 130, dai, siamo, abbastanza, è una bella cifra, comunque, per una conferenza, su un tool di nicchia, tra l'altro, in una zona geografica, che, non è magari Roma, ma è proprio sul, sul nord, e quindi, comunque, limitata, quindi, non sono neanche tutti, è interessante, sono questa statistica, c'è un buco di anni, perché, gli anni qui in mezzo, quelli del COVID, è stata fatta online, e quindi, c'erano molti più iscritti, però, diciamo che un po' più facile, perché sono coinvolti, anche quelli geograficamente distanti, quindi, avere, questo numero di persone, in presenza, 130, comunque, è una bella, cioè, io quando ho visto che sta dal, ho detto che è anche bello, che comunque ci siamo, anche perché più gente c'è, più, come dire, esperienze diverse, acquisisci, cioè, ho visto le foto di GDK, che maestosità, ah, sì, quelle, lì l'allestimento, mi è piaciuto un sacco, lì proprio ci hanno, non so quante persone erano, perché anche lì, non mi sembravano, cioè, più o meno, secondo me, eravamo, sullo stesso tenore, e poi non ho, non ho approfondito più di tanto, però, il gusto del, come dire, un po' del, dell'allestimento, con questa cosa teatro, il colore rosso, cioè, bellino, comunque, fatto abbastanza bene, è chiaro che, c'è un'azienda, che, anche di, cura abbastanza, anche online, quindi sono, molto bello, comunque, sicuramente, qui c'è anche Marco Cantù, quindi, dopo Paolo Rossi, che ha introdotto un po', anche arrivando al liceo, delle, delle cose, degli anni passati, ormai multinazionale, sì, sì, comunque, molto allargata, quindi, il top, è la conferenza, brasiliana, di Embarcadero, dove, fanno sei track, sono in 600 persone, ci sono 6, 7 track, contemporanee, che la gente segue, quelle cuffie, quindi, è una roba, statosferica, perché, insomma, il Brasile, è grande, come si dice, e quindi, buonasera, Sandro, scusate il ritardo, tanto, stiamo facendo convenibili, da più o meno, un'ora, quasi, quindi, stavo facendo vedere, un po' di foto, del, del, del fidei, con Paolo Rossi, e facendo vedere, il grafico, delle presenze, quest'anno, ha toccato, vetta 130, e quindi, e 56, per, i seminari, che comunque, non è una cattiva, frequenza, qui c'è Marco Cantù, che ha fatto, il keynote, qualche problema, col portatile, quindi, schippo un po', le foto, meno significative, che non voleva saperne, a volte si scollegava, dal video, però solo a lui, quindi, qualche incompatibilità, con questo video, ha fatto una carrellata, di Rastudio 12, quindi, diciamo, da un certo punto di vista, niente di, nuovissimo, che non si sia già visto, in qualche presentazione, perché il Mac, ma non era l'unico, perché l'avevano, in diversi, però solo lui, faceva questo, questa cosa, quindi, probabilmente, ce l'aveva con lui, oppure l'effetto demo, che deve rompere, sempre le scatole, però, quindi, si è parlato, un po', di Delphi 12, Athens, e questa è, l'asset attuale, di, Mac, buono, no dai, Mac, vabbè la macchina, io non li uso, però, insomma, ci sono molti sviluppatori di Delphi, che ne fanno uso, Windows dentro il Mac, che sviluppano anche per, altre piattaforme, iOS, eccetera, e quindi, non sono male, qui c'è, tutto l'asset di Idera, perché sapete che Delphi, è distribuito da Embarcadero, che è una società del, preferisco Linux, è giusto, ma anche quello, e, questa società, non smette di comprare, altre aziende, perché adesso, ormai il parco, è diventato, vabbè, qualcuno è più conosciuto, Embarcadero ovviamente, per Delphi, Idera, molto metto, fa il tool, mi sembra, quelli di Visual Assist, che è un tool, che hanno integrato, tra l'altro, in C++, ultra edit, c'ho nel senza anch'io, perché è l'unico che apre bene, dei file giganti, lo fa anche Notepad++, con qualche estensione, ma questo è, è sopraffino, poi, dentro la suite, c'è anche il compare, c'è un po' di cose, mi piace molto, c'è Sencha, quindi, XJS, ApiLayer, che è una specie di marketplace, per le API, io poi li conosco, perché qualcuno l'ho visto, in giro, Runorex, è un tool di testing, molto, molto famoso, che, l'ho visto utilizzare, in posti, dove mi hanno, come dire, scartato Delphi, me l'hanno, criticato, perché dicevano, sì, l'azienda non è solida, poi usano questo tool, per fare il test, non sapevano che, praticamente, l'azienda è la stessa, fondamentalmente, fanno parte, tutti degli stessi, assembla, mi sembra che fosse un tool, per DevOps, e cose di questo tipo, Froale, un editor, HTML, per la formattazione, poi c'è, continuous integration, test rate, ci sono dei tool, anche abbastanza famosi, quindi, ogni tanto, se questo, un IDE, acquafold, un IDE, per accesso ai dati, quindi, alla stessa, imbarcatiera, ne ha diversi, si stanno un po', tirando su tante, di quelle, di quelle aziende, però, sarebbe bella, un po' di integrazione, Yellowfin, che fa, mi sembra, business intelligence, qualcosa del genere, dei servizi, è tipo un reporting, c'è un, scusate, un, come si chiama, BI, Power BI, una cosa del genere, se non ricordo male, c'è qualche webinar, che hanno fatto, di recente, un po' le caratteristiche, di Delphi, designer visuali, produttività, applicazioni native, c'è chi, direi che qui, non dico nulla, di nuovo, e quindi, questa slide, era carina, perché, niente di nuovo, però, per certi versi, a volte, faccio, delle foto, a qualche slide, che mi ricorda, cose che tengo a dimenticare, come il fatto, che, in Delphi, abbiamo, praticamente, tutte le API di Windows, se parliamo di Windows, e WCL importate, però, in realtà, grazie al fatto, che Microsoft ha pubblicato, dei metadati, dell'API, questi metadati, che è un formato leggibile, c'è un convertitore, con cui, sono riusciti a generare, e si può scaricare, da Getit, che è il package manager, di Delphi, una serie di unit, che sono, praticamente, il leader, di tutte le API, di Delphi, e ce n'è, veramente, un sacco, più di 300 unit, poi, qui ho fatto, una foto, perché, in realtà, quello che io, mi dimentico sempre, è che sarebbe interessante, da un certo punto di vista, anche, magari, in una live, andarsela a esplorare, perché, qui in mezzo, vedevo, delle cose, che erano, interessanti, management, mobile device, graphics, printing, print ticket, che non ho idea, non ho la minima idea, di cosa facciano, però, c'erano dei nomi, abbastanza interessanti, che poteva essere, forse, interessante, vabbè, direct 3D, dvm, questo è il desktop, window manager, quindi, forse, si fanno delle cose, con, quello che gestisce, praticamente, le finestre, di windows, che si vedono a video, un po' di roba, su android, facciamo vedere, si che hanno, aggiornato, praticamente, tutto il tool set, quindi, senza dover cambiare, nulla, con Delphi, c'è venuta anche la manina, che, praticamente, i vecchi tool, che non venivano, praticamente, più utilizzati, sono stati un po' eliminati, sono stati integrati, tool, che fanno parte, sono gli stessi usati da android studio, ecco, fondamentalmente, però, sono integrati, quando installate Delphi, installate tutto, quindi, API level 34, si hanno recepito, il requisito, per cui, bisogna supportare, una certa versione di API, per poter pubblicare sullo store, quindi, perché ci importa, perché, quando diventa un requisito, noi possiamo ricompilarli, e metterli sullo store, avendo, dovendo, soddisfare, questa, questa forzatura, questo, questo livello minimo, di ingresso, poi, qui, ho fatto un po' un elenco, appunto, di novità, che ci sono, su FireMonkey, stile Windows 11, split screen, per mobile, il fatto che potete, supportare le applicazioni, che consentono, lo split dello schermo, quindi, anche l'applicazione si adatta, se fate lo split, sul sistema operativo Android, l'applicazione si ridimensiona, gli viene la barrettina, e qui, c'è anche lo screenshot, che fa vedere, le due applicazioni Delphi, appaiate con, lo split abilitato, che divide, quella sopra, da quella sotto, sono entrambe applicazioni Delphi, quindi, font manager, queste sono cose, abbastanza dettagliate, che poi, sono state, quality work, quindi, tutta la parte, 12.1, Delphi 12.1, che è stata, che è legata, alla qualità, al bug fixing, eccetera, eccetera, il fatto che hanno, rielaborato, la parte MDI, quindi, una parte, sostanzialmente, vecchia, di Windows, con le interfacce, diciamo, multi document, quindi, tu puoi aprire, una finestra, che è il master, precedente, tante finestre figlie, però, se lo fate, ad esempio, con Windows Form, fa schifo, perché quell'API, non è stata mai toccata, da Microsoft, e non è aggiornata, con la grafica di oggi, quindi, se fate un'applicazione, di quel tipo, che ormai è de modè, ecco, diciamo, da questo punto di vista, quello che ottenete, è una finestra, dove è ridotta icona, ci sono i tasti, di chiusura, di riduzione icona, che vanno sulla caption, insomma, non si vede, quello che hanno fatto, che è un bel lavoro, è uno dei casi, dove c'è del lavoro, dietro, che è semi trasparente, ma che comunque, è un plus, è stato, diciamo, lavorare attorno a questi API, un po' baggata, per risolvere, lato dei problemi, e quindi, rendere queste applicazioni, ancora utilizzabili, graficamente, mostrate, nel modo corretto, soprattutto, quando ci sono dei temi, quindi, attivi, quindi, stili grafici, la cosa in più, che hanno fatto, è inventarsi un componente, che è posizionato, su un form, e trasforma, tutte queste finestre, che sono sempre, qui c'è Cantù, che spiega, che sono, praticamente, embeddate, e farle diventare, un'interfaccia, tabbed, quindi, per chi usa, un approccio, per fare applicazioni, che è vecchio, di vent'anni, con un componente, lo modernizza, lo porta, direttamente, a 25 anni dopo, perché penso, che l'MDI, che è il vecchio Office, addirittura Office, non so neanche, se Office 2003, ancora ce l'aveva, perché apriva diverse finestre, poi hanno messo, il ribbon, hanno messo, tutta un'altra serie di cose, secondo me, già da allora, non si usa più, quindi più di vent'anni, io ho qualche applicazione, che ne fa uso, forse in una live, le avevamo anche viste, ma, allo stato attuale, non, meglio non usarlo più, e, cioè, c'è di meglio, però, in questo modo, tu porti il tuo sorgente, mai toccato in vent'anni, e fai un'applicazione, moderna, quindi una bella foto, cosa, alcune sono venute un po', quindi, gesticolando, è facile prendere, Marco, che tu metti gesticola, perché, fondamentalmente, è italiano, quindi, ah, qui c'è appunto, il multi tab, e quindi fa vedere, qui si vede qualcosina, che vengono trasformati in tab, e quindi, poi si può usare, mi sembra, una miscela, di tutte e due le cose, per cui, carina, quindi ho sempre dato ai miei clienti, aggiornatevi, cambiate approccio, in realtà, alla fine ha avuto ragione loro, perché adesso possono, passare direttamente a questo paradigma, perché quando l'hai usato per tanti anni, è un'applicazione che gira, cambiare, come dire, approccio, c'è un bel lavoro da fare, invece, in questo caso, ti dà una grossa mano, nel mantenere, quel, quel tipo di, di struttura, della tua applicazione, visuale, ma anche logica, perché poi, apri più finestre, ecco, rende l'affiancabile, in modo diverso, dall'emdi, e c'è un certo sforzo, poi, ci sono, FireDuck, Secure Coding, sono tutte queste opzioni, che sono state messe, in FireDuck, per aiutare a blindare meglio, l'applicazione, quindi, non so, passate un comando, potete disabilitare, l'esecuzione di più comandi, e uno potrebbe dire, vabbè, ma io ne mando uno solo, è vero, però, ammettiamo, che il comando, arrivi da una parte, di scripting, che potrebbe essere personalizzata, potrebbe stare su un database, cioè una query, che viene da fuori, e che qualcuno, vuole iniettare, per metterci dentro, magari, più istruzioni, e prendere, magari, controllo, di un server, fino, serve al resto, qualcosa, mettere questi blocchi, aiuta, perché, se si esce dai ranghi, è FireDuck, che, diciamo, c'è anche questa parte, da eventualmente, daccherare, perché, FireDuck, consente di non, di non farlo, quindi, se trovo il mondo, di inserire in una stringa, che contiene una query, un comando, e di inserire in un altro, ma ho questa limitazione, che mi impedisce, di fare più comandi, quello che riesce a fare, è inserirsi nel comando, quindi, in certo modo, hackerare il mio sistema, ma non riesce a eseguire il comando, a meno di non andare, anche a spegnere, quindi, c'è del lavoro in più da fare, c'è una sorta di protezione, in più, che consente, di bloccare, quelle cose, che potrebbero essere, le prime cose, che si vanno a fare, quando, magari, ti bucano un server, e cercano di, verificare, che il numero, di record, sia esattamente, è uno, se fai un update, una delete, magari fai delle cose, per chiave, quali comandi, puoi lanciare, c'è un ride, grazie, ben arrivato, poi, non, 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 non mi ricordo il nick, quindi, forse, non ci conosciamo, però, grazie, ben arrivato, se puoi presentarti, io sono Marco, faccio, di solito, live coding, però, stasera, me la, me la gratto, così, lo dico, ampiamente, proprio, perfettamente, perché, sono, beh, si festeggiava un po', tre anni, su questa, beniamata piattaforma, stavano guardando le foto, di una conferenza, che c'è stata, porto, delfi, come ambiente, perché, già lo script, dotnet, lo portano già, in tanti altri, e quindi, un po' di nicchia, però, di solito, si cerca, di divertirsi, di fare delle cose, un po' strane, poi, qualche live, qui sopra, nel canale, c'è, le altre, le ho messe, su, su YouTube, quindi, se qualcuno è curioso, tu cosa porti, faccio, magari, un shout out, giusto per, mi scorto sempre, di farlo, non funziona, ah, non funziona, è vero, non mi dice, non mi dice, beh, dopo andrò a dare un'occhiata, giusto per, curiosità, per vedere, di che si parla, tanto, poi, io, non mi dire, che esiste ancora, che scrive, quelle con attenzione, di stringhe, specialmente, su REST API, beh, però, non è tanto, questo discorso, quanto più, il fatto, che qualcuno, possa, guadagnare, in qualche modo, accesso, a, non so, a memoria del processo, comunque, a quella stringhe, che contiene il comando, anche in maniera, poi, bucando qualcosa, ecco, con, e quindi, in questo caso, comunque, se tu inietti qualcosa in più, è la, diciamo, riesce a fare, comunque, l'injection, no, beh, sì, quell'injection, almeno, ci sono i parametri, questa era già, ecco, se riesci ad aggiungerci qualcosa di più da fare, magari, FireDuck, che però, vede due comandi, e ti dice, no, due comandi, non li puoi eseguire, quindi, anche se riesci a iniettarlo, non riesci a farlo eseguire, perché c'è un controllo preventivo, su, sull'operazione che viene fatta, che potrebbe, diciamo, escludere alcune categorie, e quindi, diciamo, che hai uno step in più da fare, da questo punto di vista, la sicurezza non va trascurata, da parte che se ne è parlato, anche proprio in questo del FIDEL, appunto, diversi, diversi frangenti, dal punto di vista del, controllo del codice, quindi, cose di, l'ambito della sicurezza, anche, c'è parlato un po' di GDPR, di certificazioni, di vulnerabilità, quindi, il tema è stato trattato, il tema è abbastanza importante, perché ad oggi ci sono, ci sono anche delle leggi abbastanza stringenti, quindi, devi segnalare, se hai avuto un data breach, devi stare attento, a dividere database, metto dati sensibili altrove, quindi, un argomento ampio, di cui io non sono neanche esperto, quindi, questo, diciamo, che dà, dà una mano, allow SQL change, praticamente, a runtime, non puoi cambiare il testo delle query, insomma, sono un po' di, flag, che sono, sembrano inutili, ma servono solo, per impedire a qualcuno, che vada, ad eseguire, qui vedo, ad esempio, nei command kind, del select for lock, cioè, magari, disabiliti delle opzioni, per, certi tipi di select, sono cose che tu sai, di non utilizzare, le spegni, e quindi, se qualcuno trova il modo, di, infilarti queste istruzioni, quanto meno, ti, 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 ti ferma, poi, c'è stata questa, questa sessione, abbastanza interessante, del film, rest of the world, un po', un po' altisonante, sempre di Paolo, che ha parlato di, adesso qui vado, questa l'avevo messa come cover, ma è venuta, è venuta, sfocata, di tutta una serie di linguaggi, di paragoni con altri linguaggi, ecco, non era una cosa comparativa, nel senso, questo è meglio, questo è peggio, eccetera, però, era, c'era una particolare, diciamo, poi vado via sintetico, giusto, per non tediare troppo, si è parlato un po' di Go, e si è visto come, pur essendo considerato, il C di Google, in realtà, ha preso più da Oberon, che è un linguaggio, pascal e laica, assomiglia molto di più al pascal, e abbiamo visto un paio di filmati, dove appunto, i creatori di Go, dicono proprio verbalmente, di aver preso spunto, da, dal pascal in sé, in questo caso, da Oberon, spero di non, di non sbagliare il nome, ma mi sembra di sì, che, dovrebbe essere sempre, uno dei linguaggi, creati da Niklaus Wirth, e quindi, per la questione di semplicità, è anche, una sintassi, che pur, non avendo certi elementi, se inizia a metterci, diciamo, decine di interpunzioni in mezzo, fondamentalmente, è molto simile al, al pascal, e quindi anche Go, più o meno, lo, lo, lo utilizza, e quindi, c'è, fatto un po' di, come dire, di, disserzione, su, quali sono, le cose negative, dei linguaggi, ad esempio, quando la build, è lenta, quando, hai le dipendenze, che non puoi controllare, quando, trovi diversi programmatori, che usano, alcuni, diverse, del linguaggio, alcuni altri, quindi, hai un mix di stili, di programmazione, che vuol dire, che il linguaggio, è un po' troppo, cioè, non ti dà una guida, ma, chiaramente, quando questi stili, si incontrano, e non si riconciliano, questo è un problema, pensiamo, in JavaScript, secondo me, questa è una cosa, molto, molto diffusa, da questo punto di vista, un linguaggio, magari, complesso, per cui, fai fatica a leggere, non è documentato, il costo di aggiornare, ovviamente, i software, quindi, diciamo, si è parlato un po', di Go, non per, sì, anche per parlare di Go, però, appunto, per far capire, che nonostante, brevemente, a Go, manchino alcune, delle feature, soprattutto, Paolo diceva, che molte delle librerie, ad esempio, mi sembra, Osè, quella su JVT, altre librerie, che ha citato, sono, porting, diretti di Go, perché ha ritenuto, Go, molto più leggibile, rispetto ad altre implementazioni, tipo Java, per DN1, da tradurre, in Pascal, perché il linguaggio, è molto espressivo, e quindi, è molto semplice, quindi, riesce a capire, direttamente, molto facilmente, qual è l'algoritmo, quindi, gli mancheranno, magari, classi, cose di questo tipo, però, queste sono, un po', le caratteristiche, semplici, che si compila velocemente, strong typing, concurrency, self-contained binaries, che è la cosa, che viene, con Go, puoi fare un exit, che gira su tutte le piattaforme, e compilarlo ovunque, grazie, quello che, cioè, molte di queste caratteristiche, fondamentalmente, sono anche quelle di Delphi, quindi, questo per dire, che, ci sono degli aspetti, di alcuni linguaggi, che spesso vengono trascurati, ma sono poi quelli, che fanno sì, che il linguaggio, sopravviva, perché fondamentalmente, poi, i punti di forza, sono più dei punti, dei pain points, che c'erano prima, quindi, questo è il sito di V, che è un altro linguaggio emergente, che io non conosco, che però, emergente, recente, però adesso è emergente, bisogna vedere come si impone, e quindi, qui vediamo, tutte le caratteristiche, di questo linguaggio, che io non conosco, ma pare che, sia, noto, quindi sia anche utilizzato, fast compilation, cioè, ci sono in più punti, vabbè, hot code reloading, ad esempio, C sharp, è citato, solo nella questione, del, dell'hot code reloading, che, vabbè, non sape le applicazioni web, è abbastanza diffusa, e quindi, dovunque, hai un framework, però, ecco, in alcuni punti, great performance, fast compilation, non c'è proprio, Pascal, ma c'è proprio Delphi, citato come, ispirazione, quindi, anche linguaggi, come dire, di recenti introduzioni, prendono molto spunto, da, da Delphi, come modello, per alcune, alcune cose, ovviamente, poi, ovviamente, non, un linguaggio che fa tutto, diciamo, che è un linguaggio, che ha molto, molti rischi, di essere usati, in modo diversi, di essere, ad esempio, a me non piacciono, particolarmente, le novità, che stanno introducendo, su C Sharp, come alcuni costruttori, che inizializzano direttamente, membri privati, perché la sintassi è compatta, ma non, non puoi renderli, ridonli, cioè, ci sono, c'è tutto, una sintetizzazione, di roba, che è zucchero sintattico, che in realtà, non ti porta, secondo me, neanche, un gran vantaggio, perché, annetto che il colice, secondo me, diventa meno leggibile, quel colice, fondamentalmente, me lo scrive, l'ide, perché è automatizzato, io scrivo prop, da un tab, mi posiziona sul tipo, inserisco il tipo, completamente automatico, mi posiziona sul nome, metto il nome, do invio, e ho finito la proprietà, non sto a fare, la dichiarazione, mettere, non metto neanche le graffe, cioè, non metto nulla, cioè, il resto, lo fa l'ide, quindi, che cosa mi interessa, se devo rifattorizzare qualcosa, vado sul colice, lo rifattorizzo, quindi, non, non mi interessa, di sintetizzare, eccessivamente, una sintassi, in modo che, poi, non sia, comprensibile, quello che c'è scritto sopra, ecco, da questo punto di vista, poi, qui siamo, altro talk, qui, si è parlato, di postman, poi, cerco di, ho fatto delle foto, veramente, veramente, brutali, una foto del, oddio, in questo momento, mi sta sfuggendo il nome, oddio, e sì, che lo conosco bene, Alberto Daldosso, non so perché, non mi veniva in mente, perché ho visto, il primo in platea, un altro, mi veniva in mente, il suo, ma non c'entrava niente, sì, che ho sentito, 40 mila volte, che ci siamo anche parlati, quindi, una volta, mi ha fatto un talk, anche assieme, un momento, di defayance, postman, al massimo, di come sfruttare, postman, per, test, dell'api, quindi postman, sapete che quel tool, con cui potete fare, chiamarle, api, che si paga, perché, poi, tutto il progetto, viene messo, in cloud, per essere condiviso, con i colleghi, a cui si aggancia, tutta una serie, di suite, di test, e qui è fatto, diciamo, un po', una carrellata, su queste cose, e su altri tool, che stanno emergendo, come ad esempio, Bruno, che è un altro tool, per rest API, che però, salva su file, e quindi si può, mettere sotto, su scontrol, e quindi, è già un po', diverso, questa è una foto, del pranzo, con, un po', tutta la platea, quindi, questo è il lato, A, B e C, quindi, qui ci sono tutti, siamo tutti a pranzo, ci manca la parte dietro, perché, dove io facevo la foto, ma c'era la sala, praticamente piena, quindi, bello vedere anche a pranzo, la sala piena, perché, vuol dire che, ti rendi conto, anche proprio di, quanti sono, durante i talk, essendo due, track parallele, chiaramente, la gente, un po', si disperde, è in vicini, Delfi, anche questo talk, è abbastanza, è stato abbastanza, interessante, poi, ha fatto, una fatica, il buon, stasera, non mi viene in mente, neanche un nome, adesso apro il programma, perché, non mi viene in mente, nulla, il buon, poca miseria, adesso, mi viene, Caesar, ma non vorrei, non vorrei sbagliare, adesso vado a prendere, il programma, perché, sto facendo, una figura, barbina, non mi viene in mente, neanche un nome, sono, sono stanco, cosa volete mai, anche per cui, un nome particolare, quindi, no, Kleber, non Caesar, perché, evidentemente, Caesar, Kleber, giusto, ce l'ho fatta, che ha fatto vedere, qualche esempio, di codice, in Delfi, ecco qui, finalmente, un po', la voce bassa, ha fatto un po', fatica, a esporre, anche perché, parlava, un po' spagnolo, un po' speranto, non so, non capivo bene, e quindi, c'è stato un po', di difficoltà, a seguirlo, dal punto di vista, espositivo, però, ho fatto vedere, qualche, concettualmente, come, gestire, colpatane, MBC, non un contesto web, chiaramente, ma un contesto, di business logic, qui c'è una slide, sui principi solid, su cui ho fatto, un webinar, di cui vado, orgoglioso, perché i principi solid, sul mio canale YouTube, comunque c'è, sotto, dove sono i webinar, hanno tutti questi nomi, incomprensibili, brutti, con queste sigle, che sembra, di andare a studiare, qualcosa di altamente, invece, non sono così, complicati, una volta che uno, come dire, capisce lo spirito, e ciò che si intende, sono molto utili, secondo me, perché non sono, di per sé un pattern, i pattern, sono altre cose, questi sono principi, da seguire, nel realizzare i pattern, però, è molto più utile, conoscere a memoria questi, rispetto al, ai pattern in sé, perché queste regole, se applicate a un certo livello, ti consentono di, fare dei software, veramente molto manutenibili, e quindi, guardavo il gatto, che mi, divino a stuzzicare, poi c'è stato il buon, Sergio, Govoni, che porta sempre, cose interessanti, su SQL Server, in questo caso, qui si parlava, di SQL Server Encryption, protezione dei dati, all'interno di database, in questo caso, SQL Server, qui c'è un, c'è anche uno user, con sempre dei script, demo, ben fatti, tra l'altro, sul suo, GitHub si trova, tutti gli esempi, quindi, come proteggere dati, sensibili all'interno di un database, SQL Server, il buon, Sergio aveva un collarino, perché ha avuto qualche problema, di salute, no, qui siamo già andati oltre, non lo so, perché, aspetta, non vorrei, però secondo me, questo è, no, sempre lui, perché, c'era un argomento, che un po' si intrecciava, con quello di, anche di Paolo, e quindi, si è parlato, grosso modo, di protezione, di dati, in interno di un database, SQL Server, dove, abbiamo la possibilità, di criptare, dati, con diverse modalità, randomized, e deterministica, quindi, in alcuni casi, c'è una chiave, con cui potete decriptare, i valori sulla riga, si è parlato, di tutte le ripercussioni, che questo ha, sulle query, ad esempio, dove, chiaramente, si è fatto, una aware, filtrate, una colonna, che è criptata, il cripting, cioè, anche le join, le join, riescono, perché il database, fa confronti, sui valori criptati, però, ecco, anche le ricerche, chiaramente, diventano, più difficoltose, perché il dato, viene decriptato, comunque, c'è un impatto, che è variabile, sulle performance, quindi, si è parlato, un po' anche di quello, anche se non c'è, da un certo punto di vista, un dato preciso, bisogna provarlo, e testarlo, però, ecco, uno strumento, che ovviamente, non va usato, non è uno strumento, che va usato, su un intero database, il concetto, che alcuni campi, con delle chiavi, memorizzate in uno store, possono essere, criptati, quindi, quando li leggete, dalla colonna, li vedete, come dato, var binary, banalmente, perché il dato, è stato criptato, con una chiave, e quindi, se qualcuno, ruba il database, teoricamente, non può leggere i dati, a meno di non avere, la chiave, con cui, decriptarli, che in parte, sono memorizzate, anche sul DB, sono di diverso tipo, questo randomize deterministico, ma anche, la chiave, che sta nello store, quindi, ad esempio, è uno store di Windows, come certificato, quindi, chiaramente, come qualcuno, che vi ruba, una cassaforte, da, da vostro, da casa vostra, ma non, se non ruba, anche le chiavi, ovviamente, non, non può accedere, i dati, che sono all'interno, per cui, poi, si è parlato, di, der scanner, che è un altro, tool, in realtà, è un sito, quindi, per, le vulnerabilità, dove, fondamentalmente, si può, subimitare, mi viene da dire, il, il codice, in modo, da farselo, in un certo senso, validare, dal punto di vista, le vulnerabilità, cioè, analizzandosi, le cose sorgente, anche, semplici, eseguibili, perché, ci sono, diversi livelli, di servizio, ha un costo, abbastanza, importante, da quello che ho capito, ogni scansione, fa questo, questo tool, produce, un report, dove, suggerisce, cose, da, da sistemare, parte, i classici, cosmel, però, dà dei suggerimenti, su come, evitare, di incappare, in vulnerabilità, che possono rendere, diciamo, il programma, non sicuro, producendo, dei report, anche, che seguono, diversi standard, tipo, non so, se adesso, nella foto, magari, ce n'è qualcuno, quindi, ok, qui, diciamo, questa slide, mi piaceva, perché si parla, dell'importanza, di, di, come dire, prendere, in carico, il tema, della security, quando si fa, dello sviluppo, quindi, c'è scritto, appunto, qual è la tua security, non security, o, fcs, che sta per finger cross, già, incrocio le dita, speri che, e, come dire, il secondo, è già meglio del primo, in quanto, quantomeno, uno dice, incrocio le dita, ma è consapevole, che se ne deve occupare, quindi, a parte, a parte il meme, vediamo, se c'è un'altra, che è, cost offedata a bridge, sono un po' di report, insomma, questo è per evitare, di, trovarsi, come dire, un'applicazione, rotta, o comunque, con delle vulnerabilità, chiaramente, lato delfis, secondo me, questo impatto è minore, sia per un punto di vista, di come i componenti, di terze parti, sono gestiti, in maniera, anche abbastanza, sono abbastanza limitati, sia anche per il tipo di applicazione, che è inattivo, non c'è un, magari un runtime, non c'è garbage collector, però chiaramente ci sono, come si diceva prima, lato database, delle cose da considerare, chiaro che, se lavoriamo in ambiente node, e scarichiamo un package, se ne scarica 200, questo è un tema, molto più pregnante, perché, ci possono essere, delle librerie, che non sappiamo di utilizzare, perché sono usate, dalla libreria, che è usata, dalla libreria, che è usata, dal framework, che abbiamo deciso, di implementare, quindi, questo tour, questo sito, è integrato da poco, un supporto, anche per delfi, quindi, inviando un eseguibile, si può richiedere, un'analisi, inviando un, un sorgente, si ottiene un'analisi, ecco, alcuni sono, suggerimenti, anche un po', all'acqua di rose, variabili, magari dichiarate, non utilizzate, insomma, cose che si ottengono, anche un po', con, con dei tour, tipo, sonar cube, ecco, da questo punto di vista, in altri casi, magari, come vengono usati, dei puntatori, cose di questo tipo, c'è qualcosa, di più specifico, tutto per evitare, ovviamente, di creare un'applicazione, che possa essere, quindi, rotta, e bucata, in alcuni casi, serve proprio per rispondere, a delle norme di legge, perché, vi sono dei contesti, dove, bandi, eccetera, e altre, altre cose, richiedono, che voi, produciate, per un'applicazione, un report, che, magari, di un'applicazione, che magari, è un'applicazione, lato server, che è stata sottoposta, a penetration test, cose di questo tipo, per cui, insomma, e va prodotto, un report, fatti in un certo modo, quindi, o avete un consulente, che lo fa, o vi mettete a farlo, voi, ma bisogna sapere, esattamente, cosa bisogna produrre, oppure, questo tool, si manda, poi, è un divenire, perché stanno, comunque, lavorando su questo aspetto, e quindi, lo stanno, integrando, poi c'è stata, questa sessione, abbastanza interessante, del buon Dimitri, Dimitri, RFEV, che, per chi non lo conosce, lavora per un barcadero, ed è il creatore di, la libreria AnyDuck, da cui è stata, diciamo, rinominata, integrata in Delfi, la libreria FireDuck, quindi, la libreria CrossFlatform, per l'accesso ai dati, questo è il, in realtà, lui lavora, anche ad altre cose, molte più cose, non è un, uno speaker, a cui piaccia molto, fare lo speaker, perché ha un, pare, un'introversione, abbastanza, abbastanza spinta, però ha fatto una sessione, comunque, molto interessante, su, sugli attributi in Delfi, che, mi sembra che noi, qualche live, ne abbiamo parlato, adesso, non mi dicono, abbiamo parlato, sicuramente, di manager records, e in qualche, modo, anche di attributi, ma dovrei, andarmi un attimo, a rivedere, ma volendo, potremmo, secondo me, abbiamo fatto qualcosa, su file, in, dovrei riguardarci, però potrebbe essere, un argomento, da riprendere, quindi, che, sappiamo, scusate, sono l'equivalente, di decorator, e quindi, di altri, di altri, strumenti, che ci sono anche, in altri linguaggi, per decorare, dei tipi, delle classi, ovvero, ho un campo, magari, della mia classe, e quello che metto sopra, è un'etichetta, che fondamentalmente, fa sì che a runtime, venga creato, un oggetto, assegnato, a quella proprietà, a quella classe, a quel metodo, a che serve, per veicolare, delle informazioni, descrivere, magari, qualcosa, legato a quel, a quell'elemento, del codice, dare delle regole, ad esempio, di validazione, tutta una serie, di utilizzi, e metaprogrammazione, cioè, ad esempio, qui si parla, di record field, associato, con un campo, di bfield name, cioè, magari, io ho fatto, un tool, che in automatico, da una tabella, copia, i valori, dei campi, sulle proprietà, omonime, di un oggetto, mettiamo, che ci sia un campo, che differisce, cosa faccio, posso mettere un attributo, definire un tipo, che è un attributo, e applicarlo, a uno di queste proprietà, per dirgli, guarda, che il nome del campo, è questo, quindi, magari, il mio tool, che fa questo tipo, di conversione, caricando dati, trasferendoli su un oggetto, di default, usa il nome della proprietà, per cercare il nome del campo, se trovo un attributo, che specifica, un nome diverso, va a variare, questo default, quindi, il convention over configuration, è pieno di queste cose, se ricordate, le live, che abbiamo fatto, delfmvc framework, che ad esempio, usa molti attributi, ad esempio, abbiamo un metodo, che risponde a una get, il metodo si chiama, ha un nome personalizzato, ma risponde a una get, perché solo abbiamo messo, l'attributo, http get, eccetera, eccetera, quindi, qui, si parla un po', di come appunto, utilizzarli, per i propri contesti, quali sono le regole, con cui vengono presi, in considerazione, il naming, eccetera, eccetera, e qui abbiamo, qui c'è un esempio, c'è un tcustomer, forse non si legge benissimo, prova a zoomarlo, con un record, quindi c'è questa proprietà, fname, ecco, magari la mia classe, che converte, da record db, a un record di questo tipo, questo campo, l'avrebbe ignorato, se non fosse, c'è questo field, attr, che, ricercato, runtime, usando le funzioni, dell'RTTI, dell'Arluntime Type Information, va a trovare, questo attributo, e quindi dice, quindi questo è da considerare, e poi magari, qui si possono mettere, dei parametri, un costruttore, con dei parametri, che sono i parametri, della create, che dicono, ad esempio, tra apici, che il nome del campo, non è fname, ma è nm, eccetera, quindi posso decorare, oggetti, con istanze, di altri oggetti, che mi danno, delle informazioni, che poi vengono create, runtime, e posso andare a vedere, detta così, sicuramente molto, quindi poi, qui ci sono tutte le regole, di come vanno specificati, che nella dichiarazione, dell'attributo, e come dichiarare, a fare la create, fondamentalmente, i parametri, della create, vanno messi, sulla dichiarazione, se, ci provvedono, li supporta, se, un attributo, non viene trovato, c'è un buono, ma non c'è un errore, ci sono varie, varie cose, come utilizzarlo, ad esempio, in un contesto, reale, ad esempio, qui ne vediamo, un esempio, non si leggerà, una forca, lo so già, no, for si legge meglio, il live, che sul mio schermo, c'è una, property, boolean, che quando viene letto, ci sarà qualcosa, che va su questa property, dice, dammi tutti gli attributi, c'è un attributo plc, allora vuol dire, che questa variabile, va letta dal plc, viene letta la proprietà, di quell'oggetto, che è questo tics, consenso, scarico manuale, e a quel punto, ci sarà qualcosa, che va, a prendersi, dal plc, da questo dispositivo, questa cella, questo valore, e lo mette, su questa proprietà, ecco, io scansiono tutte le proprietà, a run time, prendo un oggetto di questo tipo, gli dico, dammi i nomi delle proprietà, o dammi tutti gli oggetti, che mi dicono le informazioni, su ogni proprietà, vado su ogni proprietà, e se trovo, questo attributo plc, devo fare una lettura, impostare il value, prendendo il valore, dalla cella, dal campo, che ha il nome, che c'è scritto lì dentro, quindi, cosa succede, io non devo fare, per ogni proprietà, un due punti uguale, leggi di qui e scrivi di là, faccio una logica generica, che lavora, su tutte le proprietà, di un oggetto, ce ne devo escludere qualcuna, prendo degli attributi, che facciano l'esclusione, attributi che fanno, che indicano questo contesto, qualcosa che dica, se è opzionale, o se è obbligatoria, cerco di, creare questi oggetti, da appiopare, alle varie proprietà, per fare in modo, che a run time, ispezionandoli, io venga guidato, in quello che fondamentalmente, devo fare, qui forse si legge un po' meglio, non più di tanto, ciao Gattone, sei tornato, quindi, e quindi ci sono un po', questo è un tipo di utilizzo, ma ne abbiamo, ne abbiamo svariati, quindi qui, tra l'altro è tutto uguale, però, ecco, qui in alto, ad esempio, ce ne sono due di attributi, c'è questo advertise, c'è questo plc, anche questo è un attributo, perché con la virgola, lui, li va a istanziare tutti, quindi se, con le funzioni di Delphi, io su un oggetto di questo tipo, gli dico, GetProperties, mi dà degli oggetti, tra cui un PropertyInfo, che è questa proprietà, ci sarà il PropertyType, che mi dice che è un Boolean, poi ci sarà un GetAttribute, che mi dà, questo oggetto, un oggetto, questo che è un'istanza di un oggetto, questo qui, e questo qui, poi io vado a vedere, di che tipo sono, quindi so che informazioni veicolano, leggo la stringa che c'è dentro, questo advertise, magari vuol dire pubblicamelo all'esterno, altrimenti non lo fa, quindi posso scrivere logica molto generica, che si basa su queste etichette, è un po' il concetto dell'aspecto rented programming, metà programmazione, insomma, ci sono varie tecniche che usano questo, Dimitri, l'ha spiegato bene, aveva un po' un tono, un po' mono, guardavo qui, cosa c'è scritto, no, vede uno scritto in rosso, ma non riesco a capire cos'è, ha messo a true, simulazione è obbligatorio, qui c'è un persista, anche questo ovviamente è un attributo, quindi quando si vedono con queste quadre, è sempre un attributo, questa è parte della cena, ho fatto solo questa foto, perché l'ho mandata per fare invidia, a chi era a casa, questo è solo un antipasto, quindi la cena serale, speaker, eccetera, è stata, diciamo, molto soddisfacente, perché oltre a gnocco fritto, torta fritta, come si dice a Parma, io non sono campanilista, giardiniera, salumi, formaggi, marmellatine, abbiamo fatto pisè e fasò, abbiamo preso delle caramelle, burro e salvia, con dentro, con me a bietola, comunque la classica, tipo tortelli verdi, un arrostino, salame di cioccolato, torta simis brisolona, ma un pochino più raffinata, la cosa che si è fatta, in questi due giorni, sicuramente il cibo non è mancato, tanto che io, alla mattina albergo, non ho fatto colazione, perché, sto andando sulla fana, guardare e sentire, l'ho fatta apposta, quindi non è che, era esattamente voluto, poi qui c'è Maurizio, che il giorno dopo, ha fatto questo, io l'ho seguito un po', a malapena, perché stavo, non dico risistemando le slide, ma facendo proprio le slide in quel momento, quindi questa la dice lunga su, in realtà non volevo farle, ma ci stava un po' come guida, sul seminario che avrei fatto dopo, quindi qui siamo già ai seminari, e questo è un tema molto interessante, multiutenza, persistenza, perché si è parlato un po' di tutti quegli scenari, dove, più utenti magari lavorano su dati, e quindi, se io mi trovo a lavorare su dati, che cambio, e quando vado a salvare qualcun altro, ha cambiato altri dati, o i miei dati, c'è già un problema, legato alla multiutenza, poi, quale di queste versioni, tengo, nel momento in cui ho i conflitti, come lo gestisco, e come posso, riconciliare il fatto, che io avendo fatto una modifica all'altro, prima di salvare, magari dovrebbe saperla, o meno, poi c'è, una trattazione legata, appunto all'ambito del DB, e un'altra all'API REST, e Maurizio si è fatto un bel viaggio, su questo, su questo tema, perché poi, come dire, c'è avuto a che fare, anche nell'ambito, DB, per il fatto che, iorm, chiaramente gestisce queste cose, quindi, iorm, l'ORM, dei open source, che gestisce sul canale, quindi c'era anche un talk, ecco, su alcune foto, su altri talk, che magari trovate nel programma, che qui non avete visto, non c'erano, perché io ero, ero da alcuni, quindi non mi sono spostato, più di tanto, quindi faccio vedere, quello che ho seguito, ma c'è stato, e quindi questa è una sessione, un po' su questa teoria, sulle, c'era il cap theorem, ci siamo separato, un po' di, di questo argomento, è un po' sviscerato, nei dintorni, che non è, affatto un argomento banale, molto, è molto ricco, molto spesso, si adottano, diciamo, delle semplificazioni, però anche storicizzare, i cambiamenti dei dati, dire, quando il cliente dice, ma io l'ho cambiato, questo, e quindi, voi, trovate solo l'ultima versione, di quello che è stato fatto, e quindi, c'è anche la questione, del versioning, c'è una serie, di dinamiche, che effettivamente, sono, sono abbastanza complesse, da gestire, quindi, questa è la foto, di rito, poi mi sono messo a fare, le mie slide, quindi, non ho, non ho fatto, infatti, qui c'è la mia, il mio, gagliardetto, del mio webinar, dove ho parlato, di VUJSD, poi vi faccio vedere, un paio delle foto, quelle official, questo ovviamente, per, promemoria, per il mio ricordo, anche il badge, ecco, qui non ho fatto foto, perché, dopo non c'ero, ma del mio badge, non so perché, c'è questa abitudine, di fare i badge, però, ho anche un po' di foto official, la foto della cena, degli speaker, quindi, e con lo staff, qui c'è l'inizio, quindi, queste sono quelle, girate su Facebook, qui c'è il buon Maurizio Del Magno, che spiega, appunto, model, e la parte di Orm, questo è Sergio Govoni, l'abbiamo già visto, qui si parla sempre di, qui si è parlato di Whirl, quindi Paolo Rossi, una sessione che era in contemporanea, a un'altra, qui c'è stata, se mi leggo il nome, perché mi scordo sempre, faccio fatica, mi ricordo Yuri, ma Yuri Cozzarenco, ok, mi sfuggiva il cognome, che ha parlato di questo Afterworld Framework, che è un framework 3D, in realtà l'avevo visto in azione qualche anno fa, però sono, come dire, un po' di anni, che se lo portano avanti, ed è diventato abbastanza, cazzuto, e quindi, ci sono diverse soluzioni 3D, sui diritti che non sono malvagio, questo Afterworld, cioè il Caster Game Engine, che in live, qua l'abbiamo portato, e poi gli torneremo a dare un'occhiata, perché secondo me, vale la pena approfondirlo, non mi dispiacerebbe, lavorare a un giochino, mi devo far venire un po' in mente qualcosa da, da implementare, ma non mi dispiacerebbe, come, come sfida, tratto a avere distribuito, sincronia, questo appunto, l'argomento del, del webinar, Carlo Barazzetta, che abbiamo avuto qua, nella, nella penultima live, non è l'ultima, qualche settimana fa, che parlava, appunto di come, modernizzare applicazioni VCL, quindi, ha parlato poi anche, degli style components, che abbiamo visto, operativi, qui in live, un po', un bel po' di gente, anche due ha avuto, pure io, il giorno prima, che ho fatto, Vue.js e Alpine, avevo un discreto, non c'erano posti a sedere, quindi mi ha fatto molto piacere, spero di non aver deluso, quelli che sono, quelli che sono venuti, perché erano in tanti, diciamo che io avevo, questi due temi, seminario su Vue.js e Delphi, cioè un, un talk, su un framework, che è Alpine, che è abbastanza, come dire, semplice, per chi usa javascript, ma non vuole tanto usare javascript, e poi il giorno dopo, tre ore, su Vue.js, per chi vuole usare javascript, e script, quindi per chi vuole proprio entrare, e buttarsi nel, nel mondo, tutti i tool usabilissimi, e con Delphi, perché ogni, strumento, con cui fate i back-end, tipo Mars, Weirle, DelphiMVC Framework, Ours, hanno una parte di supporto, a file statici, e quindi, fondamentalmente, le single page application, che si fanno, a meno che non si usi, il rendering server side, sono tutte applicazioni, HTML statiche, dove il javascript, fa il suo lavoro, e parla con un server, per i solidati, quindi, alla fine, il server è fatto in defi, lato interfaccia, non è obbligatorio, usare un inter, una soluzione, DelphiMVC, anche se a molti, può piacere, ci sta, ma può anche, si può anche utilizzare, qualcosa di, javascript nativo, e quindi sviluppare front-end, a tutti gli effetti, mancherebbe qualcosina, su questi frame, o per fare anche, il debug, perché per, debuggare, non si riesce a produrre, diciamo, il sito definitivo, e quindi ci vorrebbe, una soluzione intermedia, ma potrebbe essere, una cosa su cui, ci si potrebbe, come dire, lavorare ad esempio, in una live, per fare una sorta di middleware, per gestire anche, questo tipo di, di attività, bisognerebbe praticamente, fare il proxy, della single page application, cioè la single page application, esposta su una porta, ma io non comunico, in quella porta, ma comunico solo, con la porta, del back-end in Delphi, che in un caso, mi passa i file statici, dell'applicazione, javascript, fate finiti, nell'altro caso, mi fa da proxy, verso la porta, dove sta girando, la versione di debug, quindi ci sarebbe questo giro, però potrebbe essere interessante, farlo, qui c'è appunto, la sessione, su der scanner, sulla sicurezza, benvenuti, qui c'è Omar Bossoni, che ha parlato di, creare un pattern observer, in Delphi, questo non l'ho seguito, perché io, non mi ricordo dove ero, ma ero da un'altra parte, quelli più interessanti, sono sempre in concomitanza, con le sessioni, che porti, se porti sessioni, questo è un, qui c'è appunto, Steven Glank, che ha portato, Vtoon, per fare profiling, quindi io lo so solo, per sentito dire, perché purtroppo ero, un'altra cosa, qui ci sono io, che sto parlando di, VJS, va che bellino, mi si fa fare, una uno, con nuovo, logo di node, che è la tartaruga, a volante, quindi ci sono io, che sto cercando, mi faccio l'aureola, adesso così, che sto cercando, di spiegare, un po' di, javascript, qui siamo in javascript, qui l'abbiamo portato, poco sul canale, magari potrebbe essere interessante, per variare un po', mettere, in cantiere, studiare un po' di queste, anche di queste cosine, magari, qualche tutorial, di qualche framework, provarlo in diretta, per vederli un po' tutti, su, poi, non volevo chiuderlo, però, secondo me, non c'era più nient'altro, forse l'ultimo, ah, c'era poi Claudio Piffer, che ha parlato di, Flyway, che è un tool, molto carino, in realtà, l'avevo visto, IT Defcon, che è un tool, per gestire le migrazioni, sui database, quindi, l'upgrade da un database, a una versione, a un'altra, facendo le modifiche, la struttura, mantenendo i dati, però, con un toolettino, che ti dà una mano, ti salva gli script, ti fa il versioning, ti controlla, se l'aggiornamento, è andato a buon fine, ti consente, di fare anche, una sorta di rollback, alcune cose a pagamento, alcune cose gratuite, ma fondamentalmente, da un tool gratuito, è basato su java, su jdbc, quindi funziona, con qualunque database, virtualmente, quindi, e anche con docker, e quindi, ha, molto interessante, ecco, il classico toolettino, che molti sviluppatori, si fanno, ad esempio, per dire, vado da un cliente, li devo installare, un aggiornamento, c'è anche il db, devo aggiornare, anche il db, e quindi, si gestisce, in questo modo, anche l'upgrade, da quel punto di vista, poi, qui c'è ancora, Alberto, su postman, yuri, sul tool 3d, la foto, della cena, e quindi, quant'altro, qui c'è rifatto il giro, no, è stato, come dire, molto, molto interessante, da questo punto di vista, ecco qua, magari, una cosa, che non vi ho fatto vedere, ma, giusto per, queste sono anche le foto, di Tidefcon, se vogliamo, scorrere un attimo, qui dove di solito, si va a mangiare, con gli speaker, il turismo, di tenuta a porza, che in cima alle colline, proprio, si vede proprio giù, questa mente, qualche settimana prima, il 24 maggio, quindi, già che siamo in vene di conferenze, qui c'è una foto, veramente mitica, che è venuta benissimo, di Maurizio, e Fabio Codebue, che era presente, che ha fatto un seminario, non so perché, non c'era una foto, su Firebird, e qui c'è la foto, di lui che guarda, perché, stava vuotando, in un bicchiere l'acqua, e non si ha mai, da buon, bergamasco, e quindi, non si può, in realtà, io volevo fargli una foto, perché si stavano, guardando il menù assieme, sembravano quasi piccioncini, ma, la camera, ci ha messo un attimo di più, perché non era pronta, e quando ha scattato, ha scattato la reazione, al versare il vino, qui c'è il menù, quindi, vedete che, sembra che, sembra che si dà importanza al cibo, ma è vero, Fabrizio Bitti, anche qui, è come sempre, simpaticissima, è molto, organizzazione, è sempre top, secondo me, queste conferenze, molta simpatia, è molto, benvenuti, la carrellata, come sempre, degli argomenti, nelle due sale, Kirk e Spock, perché qui si fa riferimento a Star Trek, anche per chi, non, non è sviluppatore di DeFi, secondo me, queste conferenze sono, qui avevo parlato di, FairDB, che è un'alternativa, a MongoDB, nel senso, che è un, è compatibile con MongoDB, ma, si basa su, PostgreSQL, SQLite, quindi, è una cosa che, io volevo portare a MongoDB, mi è stato proposto questo, è stato molto interessante, anche studiarlo, e quindi, anche portarlo, che c'è l'agenda, algoritmi genetici, integrazione dei robot, influenti, c'è una specie di designer, di processi aziendali, io, non l'ho seguito, perché c'è la mia sessione, proprio nello stesso momento, è molto interessante, la sessione, sugli algoritmi generici, trovare soluzioni, a problemi risolvibili, ovvero, tutta quella famiglia, di algoritmi, che risolve quelle problematiche, tipo, lo zaino, il navigatore, cioè, dove, la computazione, di tutte le possibili soluzioni, buone, occuperebbe talmente, tanto tempo, che non arriveresti mai, al risultato, ad esempio, il navigatore, quando trova una rotta, per una strada, avrebbe talmente, tanti snodi, e tante alternative, da valutare, che, quindi, ci sono delle tecniche, per, e degli algoritmi, per individuare, soluzioni, che magari, non sono le migliori, ma sono senz'altro, soluzioni accettabili, e quindi, dietro le quinte, di molte tecnologie, che hanno queste necessità, ci c'erano questi, questi algoritmi, Daniele Teti, anche, che presenta, e che aveva, due sessioni, vabbè, qui ho fatto, un sacco di foto, magari, aspetta che prendo, ecco, qui c'è una spiegazione, del problema, degli algoritmi genetici, magari faccio così, perché a volte, alcune foto, sono anche ripetute, mi faccio, come visto, delle belle thumbnail, così, magari faccio vedere, le cose più interessanti, giusto, per non, per non, tediare troppo, ecco, anche la questione, dei turni, ad esempio, è una, è una roba, che spesso, viene, è da gestire, con questi algoritmi, perché, non so, io, il tal dei tali, deve lavorare, 8 ore, ma non in quella fascia, e non, un numero, di ore consecutive, senza avere, 8 ore di riposo, senza, essere accoppiato, a un'altra persona, cioè, quindi, tutte quelle cose, che vi danno, una gamma, talmente, talmente elevata, di requisiti, che andare a calcolare, tutte le combinazioni, vuol dire, aspetto un giorno, per avere una soluzione, che non è quella, io, ho seguito, personalmente, la, il talk, di Omar Borsoni, che ha parlato, di, push notification, in termini di, qui sono un po' mescolate, forse, perché si passa, live and driven, ma non mi sembra, questa fosse, l'unica foto, che ho fatto, però, vabbè, si è parlato, di notification local, quindi, di mettere, all'interno della rete, dispositivi, in comunicazione, tra loro, per inviarsi messaggi, e avviare chiamate, quindi, comunicare in privato, ad esempio, nell'ambito di un ospedale, per, non so, il dottore desiderato, ecco, la versione elettronica, di una cosa simile, che in ios, richiede, tutta una serie di procedure, cioè, diventare di gomma, perché devi registrare l'applicazione, chiedere l'entitement, te lo devono approvarlo, devi scaricare, devi creare il server, devi, tutta la sessione, che è durata, si è, dedicata a quello, poi, una parte, sull'architettura, event driven, un po' bilanciata, tra, parte teorica, e parte pratica, ma strategie, nelle gare, come dire, nel creare, delle architetture, basate sulle missioni, di eventi, che diventano poi, ad esempio, messaggi da gestire, e quindi, vengono anche storicizzati, quindi, sono, vari scenari, vari tecniche, vari pattern, e anche architetture, per gestire, un'architettura, dove, invece di dire, tu fai questo, tu fai quello, c'è un ascolto, è un messaggio, che entra, per segnalare, che qualcosa è successo, in architettura, qui, vabbè, c'è il, quindi, il framework, fatto da, da Daniele Spinetti, che è un barcadere, MVP, del FIVI, in basse, è un package, che ha fatto, ha fatto lui, quindi, l'argomento, era abbastanza vasto, era diviso in due sessioni, quindi, se ne è parlato, qui c'è l'esempio, più banale, di architettura, event driven, che è, appunto, gli eventi di Delphi, ovvero, clicco, eseguo un click, questo è l'ascolto, di un evento, e quindi, tutti gli effetti, chiaramente, non è che ci sia fermati, qui, però, ci sta, costruire ponti, tra due sistemi, per aumentare, l'interoperabilità, Spinetti, tornati in bit time, no, lavora per, Dice, penso si dica, che fa, diciamo, ticketing, e quindi, un po' come, un, viva ticket, ecco, non so, non saprei dire, un po' come un ticket one, e quindi, comunque, si trovano a dover gestire, dei flussi, di eventi, soprattutto, con il bagarinaggio, no, vabbè, adesso parte questo, quindi, si è spostato, in questa azienda, da un po' di tempo, e poi, quindi, lavora con DeFi, ma non è, sempre in contatto, anche perché hanno scritto, libero assieme, ci ha lavorato parecchio, quindi, poi, non sono, non sono aggiornato, sui rapporti, e quindi, c'è stata questa introduzione, appunto, tra, chi produce un evento, chi lo riceve, lo spalma, su diverse code, con diversi patent, publish, subscribe, le code, quindi, la trattazione, è stata abbastanza ampio, anche perché, ci sono una serie, di benefit, di leggi, di pattern, domain drive, microservice, quindi, qui, effettivamente, bisognava, vederlo, poi, un talk, di Andrea Magni, sulla virtual interface, eh sì, di Andrea Magni, ciao, di Maurizio Del Magno, sulla virtual interface, che è una cosa, che effettivamente, in live, non abbiamo mai provato, ma che sarebbe interessante, andare a, a sperimentare, è un tool, molto comodo, poi, in realtà, usa una metafora, abbastanza, implementazione statica, vabbè, qui, la cosa è lunga, ma, fondamentalmente, di virtual interface, è un tipo, che vi consente, di fare un'implementazione, virtuale, di un'interfaccia, cioè, dato un'interfaccia, voi avete possibilità, di creare una classe, che la implementa, e questa è una soluzione, oppure, implementare, il, sono d'accordo, ti aspettavo, sull'argomento, questo, quello di prima, di implementare, una, una sorta di, interfaccia, di editare, da una classe, che consente, di implementare, qualsiasi interfaccia, uno dice, come fa una classe, implementare un'interfaccia, non può avere i metodi, per tutte le interfacce, in realtà, ne ha uno, che è generico, dove viene passato, il metodo, che è stato eseguito, un array, dei parametri, e quindi, nella metafora, brillante, di Maurizio, questi, che sono implementazioni, statiche, ovvero, fa vedere, come un banco, ma, fa dentro un banco, ma, perché, strutturato da banco, ma, da macchina del caffè, a macchina del caffè, c'è questo, questo video, che spero di averlo catturato, ecco, di questo tizio, che, fondamentalmente, sarebbe il filmato, dove arriva la tizia, che mette i soldi, lui prende i soldi, e poi, prende il bancomat, e poi, restituisce i soldi, e butta fuori lo scontrino, quindi, c'è qualcuno, qui dentro, che fa il bancomat, ma, fondamentalmente, potrebbe essere inserito, ad esempio, in una, qui c'è il distributore, di sigarette, dove c'è il tizio, che rolla, rolla le canne, e poi, altre, altre versioni, altre cose, di questo tipo, quelle che fa il caffè, insomma, ne ha trovate diverse, il concetto è abbastanza, chiaro, nel senso che, dentro, c'è qualcosa di programmabile, che può cambiare faccia, ecco, poi, chiaramente, vederla bene, bisognerebbe proprio, beccare il caso di studio, e, e, approfondirla, e vedere proprio, come questa cosa, ti risolva, in un certo senso, la, ti risolve il problema, la vita, fondamentalmente, lavorando solo con interfacce, e scrivendo un'implementazione sola, quindi, questo è un po' l'obiettivo, ehm, però sì, mi rendo conto, che è parlarne così, oppure, beccare Maurizio, esatto, io, in realtà, lo beccherò, perché, a fine sabato, me ne vado, in vacanza, in quel diricione, che è terra, terra, mauriziana, quindi, sicuramente, gli dirò qualcosa, e ho già detto, ma magari, così, andiamo a fare una pizza, e quindi, gli proporrò una live, sulla virtual interface, che durerà fino alle due di notte, come, e questa è, dalla sessione, di Delphi, in VC framework, che, secondo me, ho pescato, perché c'era, una cosa interessante, che ho visto, ovvero, un'idea, su come usare, i custom, i manager records, che, tra l'altro, noi live, abbiamo, abbiamo fatto, una volta, e abbiamo fatto, questo scenario, di creare, distruggere oggetti, usando un record, che ha, diciamo, un ciclo di vita, sullo stack, che però, quando viene, deallocato, però, mi piaceva molto, come è stato usato qui, perché c'è questo metodo, e c'è questa var, che crea un contesto, e poi ce n'era un altro, dove viene usato, come using, cioè qui, praticamente, c'è una, una transazione, cioè questo va a creare, transaction, un record, perché qui dentro, viene messo un record, che però, ha un suo costruttore, distruttore, che tiene, pilotato, diciamo, un oggetto, e cosa succede, quando esci da questo metodo, questo esce dallo scope, e quindi, viene chiamato, una sorta di distruttore, che va a distruggere, un oggetto, il vantaggio, qual è, che questo restituisce, un tipo di dato, che poi, non dobbiamo farla free, perché viene fatto, in automatico, quando se ne, si va fuori di qui, doveva esserci, forse, un altro slide, che forse, non ho catturato, dove, questo viene usato, addirittura, con un begin, e quindi, c'è un costrutto, che ricorda vagamente, proprio la using, dei C sharp, che non è proprio, uguale, perché non è sintassi, ma per come scritta, è perfettamente identica, perché quando io scrivo, un begin, un end, e dentro ci metto un var, e lo metto dentro, quel begin and end, con la type inference, di fatto, sto creando, uno scope, che alla fine del land, distrugge anche, quel record, e quindi, l'oggetto, che è pilotato, da quel record, e quindi, è come fare, una sorta di try finaly, ma senza scrivere try finaly, in un modo abbastanza elegante, poi, se trovo l'espediente, per poterne, come dire, parlare in un qualche live, facendo un esempio pratico, che funzioni, dove vediamo, effettivamente, il beneficio, in quel caso, potremmo anche, vederlo, ma non è così, non c'è bisogno, di sforzarsi troppo, qui c'è ancora, sugli eventi, quindi, perché è della divisa in due parti, e quindi, vi risparmio un po' tutte, si è parlato, diciamo, nella divisa in due parti, a parte la prima parte teorica, nella seconda, c'è un po' di scenari, tipo, ho i microservizi, c'è un messaggio, che viene veicolato, ci sono due servizi, che fanno una cosa, il terzo fallisce, come torno, alla versione precedente, e qui c'è, magari, non so, la saga, cioè, sono varie tecniche, per gestire, una situazione, che rimane spuria, dove io non riesco a fare, una sorta di, transazione, come farei sul DB, in questo caso, e quindi, devo trovare, o il modo di implementare, in qualche modo, o mandare dei messaggi, che ripristino la situazione, insomma, ci sono varie problematiche, che non sono tutte, cioè, non c'è quella che le risolve tutte, ogni cosa, ha il suo pro e contro, e quindi, a seconda di quello che scelgo, mi ottengo dei vantaggi, da un certo punto di vista, e svantaggi, dall'altro punto di vista, cioè, divido microservizi, è chiaro che, ad esempio, rendo più facile gestire le dipendenze, perché ogni servizio è scollegato, però, per contro, se il mio risultato dell'elaborazione, non è più, un'elaborazione fatta da monolite, ma fatta da, servizi che sono scollegati tra loro, se voglio fare un test, devo fare tutto il passaggio, di tutta la catena, o comunque, se avviene qualcosa, di un errore, o qualcosa da diagnosticare, come dire, analizzarlo, diventa un pochino più complesso, da questo punto di vista, ci sono un po' di pattern, che ci aiutano, e che lavorano in un senso, oppure in un altro, e quindi, tipo in caso di errore, tentare il ripristino, mandando un messaggio, però è chiaro, che se quel messaggio, va in errore, cosa faccio? il ping pong, cioè a un certo punto, l'intervento manuale, o una sanatoria, non è da escludere, quindi, qui c'era un po' di questa teoria, su come, la coreografia, l'orchestration, quindi, ci sono, qualcosa di più transazionale, qualcosa di più legato, al fatto di, scambiarsi un messaggio, per tentare di ripristinare, la situazione, una cosa anche abbastanza articolata, come si vede dalle, dalle immagini, quindi, evitare di creare, dei single point of failure, che però, complicano lo scenario, in un altro senso, quindi, uno scenario di rollback, quindi, qui c'erano un po' di, un po' di cose sviscerate, in maniera abbastanza veloce, che andrebbero poi, approfondite, diciamo, con apposita bibliografia, che è un aspetto, che mi piacerebbe approfondire, da questo punto di vista, per mettere in pratica, da, in un, almeno un paio di scenari, anche di clienti, che potrebbe essere, sicuramente qualcosa di interessante, qui c'è appunto, questa coreografia, orchestration, verso coreografia, quindi, lo scenario dove, uno guida tutti, oppure, lo scenario dove, più o meno, si va, e si cerca di andare assieme, quindi, questa parte, la metafora, è chiaro che, descritto così, diventa un po', un po' generico, qui cercate di fare, più possibile foto, poi tanto, le slide, verrebbero condivise, ma, closing keynote, dovrei avere anche, magari, qualche video, però, adesso vado, magari, a mano, perché, sì, molte foto, sono di duplicati, perché non mi vengono mai bene, quindi, qui non ho capito, perché ho fatto una cosa, mentre stavo guidando, stavo guardando, ho cercato, anche di fare, una live in diretta, sul momento, anche su Twitch, ma non prendeva, molto cellulare, poi il telefono, si è scaldato, diventato rovente, perché si vede che, però, sì, qualche filmato, qualche prova, faccio un po' di filmati, ma, lui sta proprio avanti, ha finito le slide di ieri, quindi, sono bravissimo, che ci parlerà, di come convertire, qualsiasi cosa, in oro, con, la T virtual interface, poi sono filmati, fatti, insomma, un po' così, impassante, tanto per, che cos'è, come venusata, in che modo, è possibile, utilizzarla, per, poi magari, troverò modo, di pubblicarli, anche, altrove, poi c'è, la classica lotteria, degli sponsor, insomma, un po' tutte queste cosine qua, è un po' lunghetto, però, forse, no, 30 secondi, e poi, cerco di catturare, a volte, anche i momenti divertenti, però, se qui è un po' lungo, 17 minuto, quello è l'orario, 8 minuti, però, è una bella, con l'estrazione dei premi, c'è sempre un'estrazione dei premi, quindi, vale la pena anche andarci, qualche licenza, di componenti terze parti, corsi, e questo, viene, viene, viene spesso, messo in paglio, dagli sponsor, e quindi, ci sta, niente, questo è per fare un po' di, un po' di, così, far vedere un pochino di cose, dal punto di vista, di quello che è successo, un po' a queste conferenze, che sono sempre, come dire, interessanti, stavo per fare un danno, non andare, voilà, stavo per fare un danno, e così, anche un po' per raccontare, tra l'altro, c'è una maglietta del delphi day, secondo me, quindi, delphi day, ce l'ho ancora, perché, non l'ho sporcata abbastanza, e quindi, questa settimana, va così, me la uso, che dire, mi sa che c'è, la pubblicità in progress, a meno che uno, non abbia, la subscription, e quindi, Twitch, poi forse farà un giro di vita, anche da questo punto di vista, ma vabbè, una cosa che si, non la togli, dalla settimana scorsa, no, in realtà, me la sono tolta, poi me la sono rimessa, perché, siccome appunto, devo andare in vacanza, ho fatto la lavatrice, non voglio sporcare, salvo, le magliacce, così, che uso in palestra, altre cose, quindi ho detto, la uso, un paio di maglie, poi tanto queste non, c'è come un po' pesantina, da portare, la metto questa settimana, e poi, le maglie a teleconferenze, gli sviluppatori, se le portano, finiscono per, sono da scatramare, non sono da lavare, sono proprio da, da portare a scatramare, e quindi, niente, giusto per raccontare un po', com'è stato, De Fede, perché chiaramente, il bello è un po' esserci, anche un po' per, le chiacchiere che si fanno con gli altri, le esperienze, senti, gente che si lamenta, di clienti, di, però, alla fine, insomma, è stato abbastanza, tranquillo, divertente, quindi si ride sempre, abbastanza, perché escono delle cose, divertenti, anche quando o meno te l'aspetti, e quindi, è sempre una, una bella esperienza, poi si spera che, organizzino, magari qualcosa, anche più, sotto Roma, per, per espandersi un pochino, eh, anche nei, in quei territori, dove magari si fanno meno eventi, perché giustamente, qualcosa, bisogna organizzare, anche, anche lì, poi, questo, non penso che ci sia una preclusione, è un caso, però, in questo modo, ma anche chi, non ha, non riesce a venire, quantomeno a Roma, quantomeno, anche in, il nostro sud Italia, si riesca a fare qualche evento, qualche eventino, cioè, di programmazione ce ne sono, ne ho visti alcuni, non, non, non su Delphi, ma su altre cose, che sarebbero stati interessanti, però, capisco che, andare a Piacenza, per uno che sta lì, sia, anche perché io, non posso andare appunto, da Piacenza, perché un'ora e mezza da qui, a essere generosi, per cui, è anche abbastanza agevole, Padova magari, appena un po' più lontana, ma neanche più di tanto, quindi alla fine, sono, sono fattibili, Roma un po' più impegnativo, e quindi andare a Roma, ci vuole, di venditori di Delphi, su una Roma e Piacenza, sì, ho capito, però fanno, beh, stanno facendo anche, l'MVP Tour, mi sembra, si chiami, ovvero, da Roma, si spostano, in su e in giù, a visitare aziende, dove ci sono licenze Delphi, a fare, a raccogliere un pochino, di testimonianze, sull'utilizzo di Delphi, a fare un po' di, consulenza, dal punto di vista, del, come va, cosa, cosa vorreste, che mi piacerebbe, raccogliere un po' di esperienze, documentare un po' il, come dire, il sentiment, penso a BitTime, faccia questa cosa, non conosco, nei, nei dettagli, l'ho visto in una, in una mail che è girata, c'è una newsletter, se la cercate, che si chiama Delphi Bytes, scritto Bytes, però, con la I, perché sono appunto, morsi di Delphi, quindi, tanto carini, hanno pubblicato, sul mio blog, non so neanche se ha un comando, per il blog, adesso, provo a vedere, perché sono curioso, se l'ho messo, ecco, come sono, come sono avanti, cioè, neanche fossi, e, sopra c'è, una recensione di Tidefcon, ma, un po', ve l'ho raccontata già qui, e, quindi, stati carini a includere, nella newsletter, non, non riuscirò a fare il tempo, scrivere quella per il Delphi Day, motivo per cui, ne ho parlato un po' in questa live, così, se, vogliono magari, condividerla o meno, glielo dirò, poi, vedranno un pochino, vedranno un pochino, cosa fare, a parte questo, quindi, tranne del canale, io, per qualche settimana, sicuramente un paio, non, non sarò live, perché, sabato, me ne vuoi al mare, almeno, per le mie due settimane, annuali, al mare, concedetemele, poi, torno, però, adesso vedrò un attimo, cosa fare, perché, generalmente, chiaramente, in estate, sono tutti, in giro, sono tutti via, mi sarebbe piaciuto, fare una sorta di, l'idea della maratona, mi stuzzica, perché deve essere impegnativa, e non so se sono in grado, di farla realmente, però, dovessi trovare, l'espediente, in cui magari, c'è, quel, quel weekend, in cui mi posso liberare, potrei dire, penso a un progetto, mi invento un progetto, e faccio il weekend, di programmazione, ovviamente, con le pause, della serie, tipo, a notte vado in live, e quantomeno, cioè, dormire dormo, ecco, quello, il non dormire, l'ho già fatto in passato, e quindi, non sono più, nel, come dire, non riesco a farlo più, non c'è più l'età, però, qualcosa del genere, così da, oh, che bravi, che mettono, i link, da lato, c'è anche l'inglese, per cui, fatto, trovato su, delfibite, esatto, che hanno messo, il link, beh, stati gentili, almeno, non è quella, gran recensione, però, ho scritto un paio, sia sui, tdfcon, e anche sul libro, di Marco Cantù, Pavel Glovacci, di cui abbiamo anche parlato, mi sembrava giusto, insomma, visto che, si spendono, quanto meno, dare un po' di risalto, in modo che, appunto, non, questi eventi, insomma, da fare un po' conoscere, in modo che, magari, la prossima volta, qualcuno si, non so se, quelli che erano del fide, erano lì, anche per questi motivi, cioè, per averlo sentito, un po' nominare, però, chiaramente, tutto, il tutto aiuta, quindi, la cosa che cerco sempre, di fare, è un po' promozione, dal punto di vista, di cercare, di fare, di collaborare, anche a discapiti, dovermi studiare, un po' di cose, di fare un po' di fatica, più che altro, perché l'evento, è bello che si faccia, insomma, che sia, riuscito, e che abbia una sua, insomma, che ci stia a dare, fare la mia parte, dal punto di vista, poi, io, ne trago un beneficio, perché, a parte che, molte volte, sono, appunto, ospite, quindi, gradisco molto, da questo punto di vista, anche per, appunto, le cene che si fanno, però, a parte quello, non è quello, ma, anche poi poter partecipare all'evento, vedere anche, le altre cose, portare il mio contributo, quindi, quantomeno, anzi, da quel punto di vista lì, insomma, non ho proprio, nulla di cui lamentarmi, anzi, sempre, organizzazione, organizzazione toppe, come direbbero, in, in Toscana, e, e niente, a parte questo, sono un'ince e mezza, guardo se c'è qualcuno, che, si sta dilettando, in sviluppo software, o qualcosa del genere, direi che non c'è mai nessuno, ma, ci sta, perché, a quell'ora qui, chi è che si mette a parte, a parte, infatti, molti me lo dicono, tu ti metti degli orari, io, io ho tempo in quegli orari qui, quindi, in italiano, c'è qualcuno, che sta sviluppando, Ancestor Game Dev, però, non lo conosco, però, potremmo anche andare, sviluppo software e giochi, quindi, forse, facendo sviluppo, magari, ci potremmo buttare, e andare a vedere, che fa di bello, quindi, così, almeno, per una volta, facciamo qualcosa, in topi, quindi, vi dico, rimanete per il ride, aggiungerò un po' di cose, adesso, quest'estate, ne approfitterò, per pensare a cose nuove, sul, sul canale, tra il serio, e il faceto, quindi, sia cose, come dire, che possano essere, tecniche, qualcosa di, già in mezzo ai punti canale, c'è una stelle cose, un po' strane, tipo, chiedi una code review, ma anche un, volevo metterci un, blocca la tastiera, al programmatore, o cose di questo tipo, però, vabbè, da quel punto di vista, devo un po' ingegnare, devo un po' avere, un po' di fantasia, perché, alla fine, quindi, grazie di nuovo, per chi ci andrà, a breve, buone, buone vacanze, a tutti, chi ci va, e chi ci andrà dopo, se non ci vediamo, per, qualche settimana, grazie, a Muzzi, per le buone vacanze, quindi, rimanete per il ride, e, come si dice, state sintonizzati, organizzeremo qualcosa, magari, di qualche tipo, però, come dire, se lo vedete per un po', è estate, quindi, di solito, la gente non, va un po', giustamente fuori, quindi, anche per non tenere, magari, gente in casa, non dico che, la tengo in casa io, però, insomma, così non, ci si riposa un attimo, e magari, si organizza qualcosa di interessante, per, per quando si ritornerà, a tutto, a tutto andare, stacca tutte, spero, metto l'autoresponder, appunto, come, riposare, mi riposo, però, quantomeno, mi metterò, dovrò per forza, leggere, alcune cose sotto lo sdraio, ma, così, mi, mi preparo, su cose da portare, in live, per il nostro, come dire, il nostro divertimento, quindi, detto questo, tanti saluti a tutti, e grazie di nuovo, buon fine settimane, non è giovedì, oggi, martedì, ok, no, è ancora presto, quindi, siamo a metà settimana, sì e no, però, domani, comunque, buon proseguimento di settimana, buona programmazione, e direi, ci vediamo, alla prossima, ciao a tutti, grazie, buonanotte, buonanotte a tutti, 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 buonanotte a tutti,